Ciao a tutti ragazzi. Allora, aspettiamo che vedo che state entrando in davvero tantissimi, nonostante la zona gialla in gran parte dell'Italia. Allora, io innanzitutto vi chiedo un feedback se mi sentite bene, per essere sicuro che non sto parlando nel vuoto. C'è una conversation, una nuvoletta, potete scrivere lì. Scrivo io per primo, così vediamo... Ok, grazie Anna, grazie a tutti. Allora, ragazzi, sono contento che mi sentite, anzi, sono molto contento che siete qui, così tanti. Vedo già quasi 130 persone, nonostante, come dicevo prima, la zona gialla si è attivata, quindi tanti, tipo immagino, tanti ragazzi che magari non sono riusciti a venire perché hanno fatto il primo aperitivo dopo parecchio tempo. Allora, io inizierei subito. Prima vi spiego giusto due dettagli su questa piattaforma. Sulla barra di sinistra trovate due icone, che sono quelle più importanti. La prima conversation, quella dove tanti di voi hanno già iniziato a scrivere, dove appunto potete scrivere se avete problemi, se avete qualcosa da dire, o quando io vi chiederò di scrivere qualcosa. Poco sotto, invece, trovate un punto interrogativo, question and answer. È importante che le domande, invece, le facciate lì. In questo modo sarà più facile per me poi andare un po' a gestire il tutto. Ultimo pulsante, in basso a destra invece trovate un'icona bianca su sfondo nero. La potete utilizzare invece per decidere un po' la visualizzazione. Quindi se vedere full screen, se vedere slide, un po' come preferite. Tanti saluto tutti, saluto anche gli amici, ma anche i ragazzi del team di Tutored che ci stanno ascoltando. E allora, io partirei subito. Così almeno, visto che il webinar più o meno, ragazzi, dovrà circa un'ora, un'ora e un quarto, di cui, diciamo, 50 minuti sarò io a chiacchierare, ma ovviamente vi coinvolgerò spesso. E l'altra parte del tempo, invece, risponderanno, risponderò a tutte le vostre domande, anche un po' durante il webinar. Scusate che sto cercando le slide. Eccole qui. E allora, webinar, diciamo, argomento di oggi, e lavorare nel digital marketing. Quindi farò un po' una panoramica su tutti i tips, le opportunità che ci sono, i tools, le competenze. Quindi l'idea è un po' parlare di tanti, tanti argomenti. Infatti, diciamo, molti di questi li toccheremo appena, però sarà molto interessante, secondo me, per molti di voi che magari non hanno mai visto questo tipo di contenuti, di tips, di opportunità. E ovviamente poi, grazie alla chat e grazie alle domande, potete chiedermi tutto quello che volete. Quindi, ovviamente, andremo poi a rimodificare un po' il webinar. Innanzitutto, io vi ringrazio. Non so se avete assistito già al webinar di Gabriele o di Chiara. Questa qui è una serie di webinar esclusivi che stiamo facendo per chi ci ha supportato nella redazione del sondaggio. Un survey molto interessante che abbiamo fatto, che a breve usciranno i risultati. Quindi, iniziamo con i ringraziamenti. E iniziamo, diciamo, a dire chi sono io, visto che ancora non mi sono presentato. Io sono Nicolo Bardi, e sono uno dei fondatori di Tutored, insieme a Gabriele e Martina. Giusto un paio di informazioni, così almeno capite chi sono. Io ho fondato Tutored nel 2014. Sono laureato in economy and management alla LUIS. Il motivo per il quale, diciamo, mi sento confident che posso parlare di questi argomenti è perché ormai da quando è iniziato Tutored gestisco a 360 gradi, insieme al mio team, tutta la parte di marketing di Tutored, tutta la parte di comunicazione. Assolutamente, intanto Simone chiede se il webinar verrà registrato. Assolutamente sì, lo stiamo registrando, così chiunque non possa ascoltarlo, se si perde da qualche pezzo, lo può riascoltare senza problemi. Quindi, quali sono gli argomenti di oggi? Inizieremo con un po' per parlare delle professioni e le differenze tra lavorare in una startup, un'agenzia, una multinazionale. Quindi, una grandissima overview, molto veloce, su un po' tutte le varie opportunità. Parleremo poi delle competenze, quindi le competenze che hanno oggi le persone che vogliono lavorare nel marketing e le competenze che cercano le aziende e come apprenderle, che secondo me è il punto molto, molto interessante. Vi farò vedere qualche tool, vi farò vedere proprio come, ad esempio, si utilizza Facebook Advertising, vi farò vedere MailChimp, Figma, un po' di piattaforme. Ovviamente, ragazzi, non posso insegnarvi a utilizzarle in questo momento, ma già vederlo, secondo me, sarà molto, molto interessante. Chiuderemo con qualche consiglio per chi vorrebbe lavorare nel marketing e dalle ricerche, appunto, di qualche suggerimento. Diciamola in questo modo. Partiamo subito dalle professioni, ok? E qui io parto subito con una prima richiesta che vi faccio. La domanda è questa. Scrivete in chat il primo job title di chi lavora nel marketing che vi viene in mente. Quindi, quando pensate a vorrei lavorare nel marketing, qual è il ruolo che vi viene in mente? Faccio un esempio facilissimo, ad esempio, social media manager. Questo è facile, esatto, vedo Luigi. Tutti scrivono SEO, copywriter, web marketer, growth, molto interessante questo, social media manager, project manager. Vabbè, ragazzi, ne state scrivendo content manager, digital strategist. Beh, ragazzi, devo dire che ne conosce davvero tanti community manager. copywriter, giustissimo. Allora, gli sbocchi professionali del marketing, ragazzi, sono tantissimi. Io, quello che tutti pensano sempre, ah, io faccio marketing per gestire social, oppure per fare un po' di questo. Ragazzi, il marketing è super, super, super ampio. Bene, vi faccio vedere, proprio molto velocemente qui, alcuni dei ruoli che sono stati su Tutored, ok, che sono stati pubblicati dalle aziende su Tutored. Come potete vedere, abbiamo dal product manager, che è un po' il manager del prodotto a 360 gradi. Abbiamo il brand manager. Considerate che il brand manager, soprattutto in grandi aziende, come Ferrero, Luxottica, è uno dei ruoli più ricercati in assoluto da queste grandi aziende. Cosa fa il brand manager? È quello che gestisce a 360 gradi il brand. Ok. Abbiamo poi Salesforce Analyst, diciamo la piattaforma Salesforce famosissima, ecco, chi in qualche modo analizza un po' le performance di questo tipo di piattaforme. Abbiamo il copywriter, come avete detto bene tanti di voi, il graphic designer. Abbiamo il digital marketing specialist, anche qui un po' più a 360 gradi, magari ecco in realtà un pochino più piccole. Quindi fondare anche un proprio prodotto, assolutamente sì. Abbiamo il growth hacker. Prima qualcuno citava il growth, no? Questo è un termine che se poi qualcuno è interessato possiamo approfondirlo, però è colui che si occupa di cosa? Della crescita. Ok, quindi quello che, grandi realtà, tipo Facebook, hanno un team gigantesco dedicato alla crescita degli utenti. Ok. esiste un ruolo specifico per quello. Ecco, in realtà italiana è un pochino difficile trovarle. Abbiamo poi quello che tutti avevano detto, il social media manager, ovvero colui che gestisce i social media, tutti i vari social media, che conoscete tutti molto bene. Allora, diciamo che Arianna chiede, potrebbe spiegare velocemente, intanto potresti dammi del tu per favore, spiegare velocemente le differenze tra digital e social media manager. Allora, il social media manager è colui che è focus sui social media. Quindi social media sono Instagram, Facebook e tanti altri che vedremo dopo. Quando invece si parla più di digital marketing a 360 gradi, si parla anche di tutto ciò che è digital. Quindi, banalmente, l'applicazione, le applicazioni, si parla di advertising su Spotify, vi faccio un esempio, si parla di gestione delle newsletter, ok? O gestione delle notifiche. Quindi, tutto ciò che è digital. Ovviamente, ragazzi, io oggi parlerò di digital marketing, perché è quello che ovviamente conosco di più, ma ovviamente non scordiamoci del marketing tradizionale, ok? Che ancora oggi è molto, molto importante. Pensiamo a quello che organizza gli eventi, pensiamo alla cartellolistica, pensiamo a tante attività, diciamo, del marketing tradizionale. Sicuramente, il marketing digitale è quello più in esplosione. Su questo, diciamo, non abbiamo, non ne ho dubbi. Qui, esatto, scrive ancora copywriter. Perfetto. Andiamo un pochino avanti. Io, però, intanto, considerate che queste slide, io ve le darò alla fine, vi manderò una mail alla fine del webinar, con tantissimi link che ho messo, perché, come vi dicevo, voglio raccontarvi un sacco di cose, ma non possiamo stare qui tutta la notte, ecco. Quindi, per esempio, abbiamo fatto un articolo che parla proprio degli sbocchi professionali, per chi vorrebbe lavorare nel marketing. Quindi, questo era per darvi un po' una panoramica. Però, che succede? Tutte queste figure che abbiamo visto, stanno dove? Dentro le aziende, no? Quindi, ho cercato di cercare di racchiudere un pochino quali sono le tipologie di aziende nel quale potreste lavorare e quali sono, diciamo, delle piccole differenze. Partiamo dalle agenzie di marketing. Io faccio un piccolo preambolo, non ho mai lavorato in un'agenzia di marketing. Quindi, ho tanti amici che l'hanno fatto, ho intervistato tantissimi ragazzi che lo fanno, ma ecco, non ho mai avuto un'esperienza diretta. Però ecco, secondo Wikipedia, ho deciso di prendere Wikipedia, così che, diciamo, è abbastanza neutrale. L'agenzia di marketing o agenzia pubblicitaria è un'impresa che effettua le attività di creazione, pianificazione, produzione e posizionamento di campagne pubblicitarie. Direi molto chiaro, quindi, quelle realtà, ad esempio, se io devo vendere delle borracce, faccio qui borracce tutta brandizzate, cosa succede? Se, ad esempio, decido di promuovere queste borracce, vado da un'agenzia di marketing e loro vedono a 360 gradi tutto il processo. Quindi, dall'ideazione della campagna, alla strategia, al timing, ma anche all'esecuzione, ok? Quindi abbiamo tutta la parte di esecuzione, produzione, in questo caso, e poi successivamente anche la parte di analisi dei risultati, ok? Quindi, è un modo per dire, io devo promuovere questa borraccia, non ho il nuovo interno, occupatene te. Esistono tantissime tipologie di agenzie di marketing, ok? O agenzie pubblicitarie. Le due probabilmente più grandi sono WPP e Publisys, considerate che Publisys ha nel mondo 40.000 dipendenti. Quindi, queste sono realtà gigantesche, nel quale, ovviamente, all'interno di queste realtà, troverete tutti i ruoli che abbiamo detto prima. Quindi, troverete dal graphic designer, al copywriter, al digital marketing specialist, troverete assolutamente di tutto, ok? Sono realtà che hanno grandissime sedi anche qua in Italia, quindi sicuramente invito a dargli un'occhiata se siete interessati a questo mondo. E poi ci sono anche realtà molto più piccoline, quindi da agenzie che hanno 5, 10, 15 dipendenti, a realtà, secondo me, estremamente interessanti, come ad esempio Caffeina, non so quanti di voi la conoscono. Una realtà anche qui con 200 dipendenti, se non sbaglio, l'ho vista prima da LinkedIn, una realtà estremamente interessante, che si occupa, ovviamente, molto simile a WPP e Publisys, però in piccolo, ok, ovviamente, ma fa, diciamo, attività estremamente interessanti. Ovviamente, in questo caso, essendo in realtà più piccoli, non troverete tutti i ruoli che abbiamo visto. Quindi, per esempio, magari potrebbero essere più esperti lato digital, e un po' meno lato tradizionale. Potrebbero essere, potrebbe essere che trovate più lato web, e un po' meno lato design, facciamo un esempio, ok? Però, per farvi capire un attimino, un progetto, per esempio, Caffeina si è occupato di questo progetto, non so se quanti di voi lo conoscono. Nutella ha lanciato dei, se non sbaglio, qui c'è scritto 30 vasetti di Nutella, con i posti più belli d'Italia, ok? Questo qui è stato una campagna, che è stata gestita a 360 gradi, ovviamente, escludendo la logistica e la produzione, da Caffeina. Quindi, hanno ideato il concept, hanno sviluppato tutte le varie grafiche, tutta la parte di copywriting, hanno, sono occupati della promozione, di questo nuovo vasetto. Ok, questo è il lavoro delle agenzie di marketing. Un lavoro estremamente interessante, che dà la possibilità, a tutti coloro che sono interessati, di vedere vari aspetti del marketing, da un momento che loro si occupano solo di questo. Vi do anche qui un altro tips. Abbiamo organizzato proprio un webinar, insieme a Giovanni Pupo, che parlavamo proprio delle agenzie di marketing. Quindi un webinar di 40 minuti, dove chi è interessato a questo mondo, io vi consiglio ovviamente di dargli, dargli un'occhiata, perché è stato estremamente, estremamente interessante. Come al solito, poi io darò le slide, e quindi avrete tutti i vari link. Questo è un po' il mondo delle agenzie di marketing. Ovviamente, con chi lavorano le agenzie di marketing? Lavorano con startup, multinazionali e PMI. Ok, partiamo dalle multinazionali. Le multinazionali, che sono delle grandi imprese internazionali, che organizzano, vabbè, anche qui ho preso Wikipedia, forse non è proprio chiarissimo, però è un'impresa, che organizza e realizza, uno o più attività, in almeno due diversi stati del mondo. Ovviamente, conosco tante startup, che hanno tre dipendenti, che lavorano in tre paesi, diciamo, ecco, quelle non li definirei internazionali. Però ecco, sono grandissime in realtà. Chi sono queste? Ad esempio Accenture, una società di consulenza. Anche qua, tantissimi ragazzi, laureati nel marketing, o che ambiscono a lavorare in questo mondo, lavorano ad Accenture. In questo caso, qual è il lavoro che andreste a fare? È un lavoro di consulenza del marketing. Quindi, facciamo un esempio anche qui, sempre con le famose borracce. Io vado ad Accenture, che sono degli esperti, e dico, ciao Accenture, io ho bisogno di promuovere le mie borracce. Che tipo di consiglio mi data? Quindi, svolgono un ruolo che è abbastanza simile all'agenzia di marketing, ma meno a 360 gradi. Ok? Questo, diciamo, è un primo. Il secondo, invece, sono delle, ad esempio, delle banche, come può essere i generali. In questo caso, anche qua, sono aziende talmente grandi, che avranno di tutti i tipi di ruoli. Avranno dall'Internal Communication, avranno dal Growth, avranno dal Graphic Design, hanno davvero, davvero di tutto. Ok? E ovviamente, anche qui ci sono tantissime opportunità, qua ve ne farò vedere qualcuno. Che succede? Una realtà come generale, ma come tantissime altre, lavora una strettissimo contatto con delle agenzie di marketing, con delle agenzie pubblicitarie. Questo perché? Perché ovviamente, spesso, invece di assumere tantissime persone in lato marketing, conviene invece creare un team un pochino più piccolo, che però si interfaccia con le agenzie pubblicitarie. per avere, diciamo, la massima, il massimo rendimento a ogni tipo di attività che si va a fare. Altre multinazionali possono essere, ad esempio, Google, come tutti conoscete. Anche qua, ogni realtà è molto diversa, no? Ad esempio, Accenture è di consulenza, in generale, è una grande banca e deve, ovviamente, andare a promuovere, ad esempio, i propri prodotti assicurativi. Google, lato marketing, c'è due sfaccettature. Da un lato, più una sorta di consulenza sales, quindi, per esempio, invogliare le persone a investire soldi sulla parte di Google Advertising, questo è un tema. Dall'altra parte, abbiamo invece la parte di promozione dei prodotti di Google, Gmail, Google Maps, e scusate, potrei stare qui all'infinito. Anche qui, le multinazionali cercano davvero tantissimi ruoli con molto, molto diversi tra di loro, e quindi, non è che ci hanno più designer o più copywriter, dipende tantissimo dal team, ok? Per esempio, su Tutored, quindi dove, come immagino sapete tutti, dal momento che siete tutti i nostri utenti, ci sono tantissime opportunità in diverse aziende. Per esempio, lato multinazionali, qui ve ho riportato i quattro, abbiamo, come potete vedere, molto diverse. Da un lato, Digital Marketing e Channel Growth Intern, di generali. Sempre generali, più invece un lavoro di analyst, quindi Strategic Marketing Analyst. Ora, vi invito poi a dargli un'occhiata sul nostro sito, lo trovate facilmente. Però ecco, va a analizzare tutta la parte di marketing. Quindi ecco, guardate, una persona che lavora in questo team, quindi come Strategic Marketing Analyst, andrà a lavorare su una nicchia molto specifica, che è la parte di analisi della strategia, ok? Molto diverso, invece, ecco, chi fa Digital Marketing e Channel Growth Intern, ok? Le grandi aziende, e questo, diciamo, è il primo tema importante, quando vai a lavorare, non vai a vedere il processo a 360 gradi, ma vai a vedere, ti vai a focalizzare su una specifica attività. Diverso, l'agenzia di marketing, anche qua, Publisys è gigantesca, quindi probabilmente anche tu andrai a fare una singola attività, una realtà come caffeina, probabilmente vedrai molto più facilmente il processo a 360 gradi. Abbiamo poi XA, che cerca uno Stage Graphic Design, quindi per dire, no, un po' più la parte creativa, se prima, con generali, più analyst, quindi un pochino una persona un po' più metodica, più specifica, su design, più creativa, e poi abbiamo invece Team System, che cerca un internal communication. Un lavoro ancora, ancora diverso, quindi, non è marketing esterno, quindi verso, diciamo, i stakeholders esterni, che possono essere i clienti, ma interni, quindi probabilmente comunicazioni, per esempio, sui propri dipendenti. Ok. Quindi, questo era per darvi un po' il tema delle multinazionali. Adesso abbiamo poi il tema del, scusate, mi sono scordato di dirvi che io abbiamo fatto un altro webinar molto interessante con Enrico Buzzetti, che lavora in Fastweb, dove fa vedere chiaramente come, cosa vuol dire lavorare in una grande azienda come Fastweb, che si interfaccia tantissimo con le agenzie pubblicitarie. Quindi, in un'ora, Enrico, che poi è pure un docente, quindi è molto, molto bravo, vi racconterà il dettaglio proprio questo. Quindi, ecco, ci tengo, chi è interessato a questo tipo di marketing, di dare un'occhiata a questo webinar, fatto benissimo. Un po' più ampio, invece, sempre con Enrico, ma in questo caso anche con Alessandro, dove è un po' più generica, andiamo a vedere un po' più il trade marketing, altro marketing completamente diverso, quindi un marketing B2B, un altro mondo che potremmo starne a parlare le ore, contro, diciamo, versus digital marketing un po' più classico. Quindi, ecco, abbiamo vari contenuti su Tutored, mi faceva piacere, no? Darvi, gettarvi un po' di tips, e poi lasciare a voi chi è interessato ad andare a vedere un po' questo tipo di contenuto. Abbiamo poi la startup, anche qui ho preso Wikipedia, ma per essere, diciamo, più politically correct, qua dice, con il termine startup si identificano nuove imprese in cerca di soluzioni organizzative e strategiche che siano ripetibili e possono crescere definitivamente. Diciamo, ci sta poi il termine startup può essere usato in tantissimi altri modi, comunque, per dire, Facebook è stata una startup, Airbnb è stata una startup, Tutored, diciamo, noi ci definiamo una startup, è, diciamo, una realtà innovativa, quindi un'azione di prodotto o di processo che ha l'obiettivo di scalare, un po' questo il tema di essere ripetibili e possono crescere indefinitamente, quindi una crescita viene definita esponenziale. Però, oggi non siamo qui per fare lezioni di startup, sappiamo a dire cosa vuol dire lavorare in una startup. Come dicevo, questi sono tre esempi di startup, abbiamo Airbnb, abbiamo BuddyFit, perché non la conosci in realtà molto interessante, un po' come dicono loro, il Netflix del fitness, quindi tu ti fai un abbonamento mensile e puoi vedere live degli insegnanti che ti fanno yoga, ti fanno pilates o t'altra attività e poi abbiamo Tutored. cosa vuol dire lavorare in una startup? Ok, diciamo questo è quello su cui io ovviamente posso parlare di più dal momento che ci ho lavorato di più. Se nella multinazionale, come diciamo prima, si fa vedere molto una nicchia, quindi magari tutti occupi della parte di analyst e quindi lavori molto con i numeri, al contrario, l'attività bella di una startup qual è? Il fatto di vedere a 360 gradi il processo. Ovviamente io Airbnb l'ho messa per farvi capire startup, oggi Airbnb non è una startup, prendiamo una realtà come Tutored che conosco bene, noi siamo un team quindi 5 persone a livello di marketing, quindi anche il ragazzo appena entrato ha subito un sacco di dimensioni da fare, ma soprattutto dal giorno 1 lui è produttivo e ha la possibilità di poter vedere a 360 gradi il processo, quindi nelle nostre riunioni del marketing, noi ogni lunedì facciamo una riunione, ognuno viene aggiornato su qualunque cosa stiamo facendo, quindi ovviamente capite che è impossibile che i generali facciano una cosa del genere, non lo possiamo fare, quindi un ragazzo che magari fa il grafico ad esempio ogni lunedì saprà le mail che abbiamo mandato, saprà la parte di numeri, quindi quante cagnature sono state effettuate, saprà a livello strategico quali webinar stiamo organizzando, quindi ecco, lavorare una startup da l'aspetto positivo, quello secondo me più positivo in assoluto è proprio la visione a 360 gradi, anche per capire un pochino quello che uno vuole fare, nessuno dice ah io nella vita voglio fare Facebook advertising, nessuno lo può sapere finché non lo prova, come nessuno, quindi è un po' un po' questo sicuramente un tema positivo, tema ovviamente negativo rispetto alle grandi aziende ovviamente è il tema della stabilità, perché lavorare in generale ti permette ovviamente di entrare in una realtà molto, molto grande, molto, molto strutturata che da una volta fatto un contratto difficilmente poi una persona viene cacciata, meno che non vuole cambiare, al contrario, una startup è sempre molto più stabile, considerate che diciamo, presi i dati delle startup early stage la maggior parte fallisce, ma parliamo di numeri oltre il 98%, ok? Quindi è molto diverso, ma ovviamente la startup è molto dinamica, ok? Noi per esempio, per farvi un esempio, questa piattaforma dei webinar, un anno fa abbiamo detto a marzo scorso, abbiamo detto potrebbe essere interessante farla, lì tempo due settimane abbiamo sviluppato questa piattaforma, ok? Per esempio l'altra volta un mio collega da me ha detto ma che ne pensi di fare un po' di advertising su Spotify? Ci abbiamo ragionato un attimino, abbiamo fatto una riunione, tempo una settimana e abbiamo le nostre advertising, anzi, sono tuttora attive su Spotify. Quindi ecco, questa lestracità in grande realtà difficilmente la puoi avere, ok? Ovviamente la differenza sono i mezzi, perché lavorare in realtà come può essere un Google ovviamente ha dei strumenti molto più potenti di un Tutored, un Bodyfit e tante altre startup che noi conosciamo. Ovviamente se su questo tema vi interessa particolarmente io sono più che contento di approfondirlo ancora di più. L'ultimo che è il tema delle PMI. Le PMI sono talmente tanto diverse che è difficile andare a definire lavorare nel marketing di una PMI, perché una PMI è sì una startup ma anche una grande azienda, perché se sono PMI con 499 dipendenti, PMI con 50 dipendenti, ok? Quindi bisogna ovviamente tarare. Sicuramente una PMI, ci sono PMI che sono molto simili a una startup, molto dinamiche, PMI un po' più macchinose, ok? Quindi dipende tantissimo. noi lavoriamo su Tutored e trovate opportunità in startup, trovate opportunità in multinazionali, trovate anche in PMI. E noi abbiamo PMI che magari hanno 250 dipendenti e sono estremamente interessanti, al contrario. PMI che magari invece hanno 60 dipendenti e magari hanno un marketing più tradizionale, ok? Quindi ecco, poi quando parliamo dei colloqui vi farò vedere anche qualcosa di interessante per andare a vedere il tipo di comunicazione che fa. Questa, diciamo, è la prima parte, è il primo punto. Adesso io andrei avanti. Se qualcuno ha qualche domanda, io rimango a tempo di bere, così se esce qualche domanda rispondo volentieri su questo punto, sapendo che potete fare le domande tutto il tempo che volete, perché io non ho problemi anche a ritornare indietro. Ok, io intanto vado avanti, poi se arrivano domande rispondiamo. Perché vi faccio io una domanda a voi invece? Ora parliamo di competenze, quindi da un lato abbiamo le competenze che oggi le persone hanno e dall'altra le competenze che vengono cercate dall'azienda. Quindi vi chiedo, scrivete in chat, quali sono, secondo voi, le competenze più comuni tra chi si candida su Twitter ad una posizione di marketing? Quindi tutti i ragazzi, immagino tanti di voi che si stanno candidando, sono interessati a candidarsi a una posizione di marketing. Quali sono, qual è la posizione, anzi, qual è la competenza che hanno tutti? Ok, vediamo se sono stato chiaro. Laura in comunicazione, allora, in questo caso io parlo più di hard e soft skills, ok, non quindi di laurea, di background. Ok, quindi esatto, creatività, proattività, SEO, ok, molto interessante, creatività, dinamicità. Se vi chiedo un po' più di hard skills, mi interessava capire, ok, perché alla fine, allora, aspettiamo ancora un po' che, Excel, comunicazione, social advertising, ok, sta rischiando un sacco di, un sacco, quindi, potete anche fermarvi un attimino. Vi faccio vedere, diciamo, i dati che sono estremamente interessanti, ovvero, quali sono le competenze che hanno gli utenti tutor e che si stanno candidando a job offer di marketing. Abbiamo Microsoft Office come primo punto in assoluto, abbiamo social media, quindi la gestione di tutti i social media, abbiamo WordPress, che non so se voi lo conoscete, secondo me lo posso spiegare, abbiamo Adobe Photoshop, quindi il programma di, il programma per, diciamo, di creatività, adesso non viene la parola esatta, Google Analytics, Facebook for Business, SEO, HTML, Google Advertising e la patente ICDN. Queste sono le competenze che oggi, effettivamente, hanno gli utenti su Tutored che si stanno candidando a job offer di marketing. Ok? E' interessante vedere, anche se come già potete intravedere, sulla parte di destra c'è un'altra parte, ovvero le competenze cercare delle aziende per una protezione di marketing. E io qua vi dico, secondo voi, le competenze che in questo momento, ok, le aziende stanno cercando su Tutored, sono, matchano con quelle che hanno gli utenti oppure no? E se sì, quali sono secondo voi? Immagino che poi sono sempre le stesse, ok? Quindi immagino che scriverete un po' quelle che ci sono in questo momento, che avete già, che avete già scritto. Sì, per lo più, scrive Giuseppina, Office, sicuramente con Analytics. Arianna dice, chiedo un'esperienza che un laureato non ha. Dopo a questa domanda ti risponderò bene, Arianna. Allora, andiamo avanti, diciamo io direi banda alle ciance, che qui abbiamo tanti contenuti da far vedere. Queste sono le competenze che ricercano le aziende. Come potete vedere, non c'è troppa differenza, dopo andiamo un po' più in dettaglio. Abbiamo Office, come prima, e Social Media. Quindi, Microsoft Office, ragazzi, penso che già lo sapevate, ma è il numero uno in assoluto. Quello è proprio lo step zero, ma questo non è marketing, è qualunque tipo di attività. Abbiamo poi Social Media, quindi la gestione dei social media, abbiamo Photoshop, SEO, SEM, Email Marketing, Facebook for Business, Google Analytics, Illustrator, Illustrator e InDesign. Quindi, se noi andiamo un pochino a vedere, alla fine, nelle top 10, quello che manca sono tre. Email Marketing, Illustrator e InDesign, che sono due, diciamo, prodotti di grafica che secondo me, adesso, se c'è qualche designer, si arrabbierà tantissimo, diciamo che, con Photoshop, poi, Illustrator, si possono fare cose simili, diciamo in questo modo. Praticamente io, che sono una sviluppatrice, potrei candidarmi nel marketing. Esatto, brava Sofia, vedi. Il problema è che vengono richieste troppe competenze, non l'ho arrivato purtroppo. Questo è un altro tema che magari dopo andiamo a fronte. Paolo dice, meglio, Illustrator, sono d'accordo, sono d'accordo. Queste sono un po' le competenze. Io sono andato un po', sono andato un po', no, 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 Arianna, tu hai, tranquilla, anche se sei fatto giurisprudenza, puoi stare molto tranquilla. Però, se non voglio un po' entrare nel dettaglio di queste competenze che cercano le aziende, prima di tutto, parliamo di social media. Quando si parla di social media, ragazzi, non è Facebook, Twitter, Instagram. No, ce ne sono un miliardo di social media. Sicuramente, Instagram, Facebook, sono importanti, ma Google Cloud, ora non c'è più questa qui, ho preso questa qui, che ma effettivamente non è molta azzeccata. Però abbiamo LinkedIn, abbiamo Pinterest, ragazzi, Pinterest ha cresciuto tantissimo, abbiamo YouTube, che qui non ci sta, non so perché non l'hanno messo, che sta crescendo a retmi esponenziali, abbiamo, qui ragazzi, ce ne sono tantissimi altri, abbiamo Behanze, ne abbiamo tanti SoundCloud, Spotify, non è proprio un social media, ma io ci inizierei a ragionare. Ok, quindi il tema è i social media, le aziende utilizzano la maggior parte dei social media, soprattutto le start-up, le PMI, è importante conoscere i social. E quando si parla di conoscere, TikTok, bravissima Agnese, scusate, non ci sta, quindi è importante conoscere i social media per chi vuole lavorare in questo ambito. Conoscere, ragazzi, non vuol dire aver pubblicato una storia su Instagram, quello lo sanno fare tutto, ma vuol dire cercare di capire le logiche, quindi, ma perché c'è questo tipo di advertising su Instagram? Qui Lorenzo chiede a cosa serve esattamente Pinterest. Bella domanda. Ok, Pinterest è un social molto diverso, molto su immagini, però per esempio ci sta questa realtà che si chiama Alta Cucina che ha oltre 50 milioni di impression ogni mese, loro fanno ricette. Perché lì è molto, esatto, Francesca risponde, per far conoscere i propri prodotti. Per esempio, ecco, se io devo arredare la mia casa, vado su Pinterest, scrivo arredamento casa e trovo un sacco di immagini molto, molto interessanti. Oppure se io devo, nel caso di Tutored un po' così applica, noi ci occupiamo di lavorare, di formazione, però ecco, dipende un po' quello che uno fa. Detto questo, è importante conoscerlo, perché poi uno non ci pensa, ma magari viene l'idea brillante per utilizzarlo. Quindi, io, la prima cosa che vi dico è, avete già un account su tutte queste piattaforme. Io capisco che poi ognuno, sono tante piattaforme, però, è gratis, ok? I social sono gratis, quindi, è importantissimo conoscerli. Perché non sapete mai che magari capiterà quella persona che vi dirà, magari una startup, che magari vuole affrontare su TikTok e dice, ma tu conosci TikTok? Sì, tutti conoscono TikTok magari, ma l'hai provato, magari già gli puoi dare qualche input interessante, ok? Quindi è molto importante conoscere i social. Abbiamo Photoshop, quindi, che è, diciamo, il principale programma per creare delle grafiche, è importantissimo conoscerlo per tutti, ok? Se tu sei un programmatore, prima qualcuno lo diceva, i nostri programmatori lo sanno usicchiare, diciamo così, è importante almeno sapersi muovere, capire come funziona, ok? È molto importante, per chi vuole essere un po' più analitico, è importante saperlo, a prescindere, ovviamente, se uno vuole fare grafica, che lo stiamo, che lo, non c'è. Io, Photoshop a pagamento, ora, io c'è qualche grafico qua che sarebbero, però sicuramente per una persona che deve magari gestire molto delle grafiche un pochino semplici o per prendere la mano, no? Su come funzionano i colori, come modificarli, come spostare, Canva, Figma sono senza dubbio i migliori tool, dopo vi farò vedere un pochino come noi utilizziamo per gestire i nostri social Figma. Gimp, ragazzi, Gimp è bruttissimo, ok? Quindi penso che se ci fosse stato qui il nostro, il nostro grafico si sarebbe arrabbiato tantissimo, è un tool molto, diciamo, che fa un decimo delle cose che fa Photoshop, però può essere sicuramente un tool gratis da utilizzare. Quindi sicuramente utilizzare un po' questi vi permette di conoscere a 360 gradi un po' il tutto. Sicuramente io, Canva e Figma sono i migliori, secondo me. Sono online poi, ancora più comodo, poi avete anche la possibilità di poterlo scaricare. Poi abbiamo prima qualcuno qui chiedeva a cosa serve SEO e SAM. Allora, ve lo spiego velocemente, purtroppo è un pochino piccolo, mi spiego cos'è la differenza tra SEO e SAM. SEO, cos'è? Qui parliamo di Google, quindi contestualizziamo, mondo Google. SEO, cos'è il SEO? è la search engine optimization, ovvero tutte quelle strategie che servono per portare i risultati di una pagina web in prima pagina. Quindi faccio un esempio, io scrivo sbocchi, laureativi, marketing, l'obiettivo di Tuteled qual è? Che il primo risultato è proprio laurea in marketing, cosa aspettarsi di sbocchi, laureativi, un nostro contenuto. Ora, io l'ho fatto, noi eravamo secondi come posizione, quindi poi con queste parole chiave, quindi potete provare e vedere in che posizione trovate il Tuteled. Questo è un lavoro. E qua c'ho tanti, il SEO, quindi come funziona adesso pure qui, potremmo parlarne per ore, però di base c'ha due grandi mondi, no? Una parte è la capacità di scrivere dei contenuti SEO friendly, si dice. Quindi utilizzare il giusto parola chiave, utilizzare lo slug intelligente, fare delle ricerche per capire, no, quali sono le parole simili, quindi lavorare in marketing, lavorare nella comunicazione, quindi cercare di creare il contenuto che possa essere molto, diciamo, utile a chi lo legge, ma anche molto friendly a chi, a Google, che poi lo deve andare ad analizzare e lo deve in qualche modo mostrare aiutare. Questo è molto importante e quindi c'è una prima parte che è quella, diciamo, che viene ricercata spesso anche dai copywriting, quindi per scrivere al meglio il contenuto. La seconda componente del SEO invece è la parte back-end, quindi come viene costruito un sito per essere user friendly e per essere SEO friendly. Quindi ad esempio il fatto che se una pagina ci mette 10 secondi ad aprirsi, lasciatemi dire che Google la penalizzerà tantissimo. Oppure se ci sono delle immagini pesantissime, Google la penalizza. Oppure se il sito non è mobile friendly, cosa che ormai ragazzi nessun sito lo è, però può capitare, viene super penalizzato. Quindi ci sono una serie di attività da fare. Ovviamente le aziende, come vi ho fatto vedere prima, cercano questo tipo di competenze. È importante quindi conoscere il SEO e provare a studiarsi un po' questa attività. diversa invece la parte di SEM che oggi si piace più Google Advertising ovvero risultati sponsorizzati. Quindi anche qua il caso che ho fatto io è scrivere Stagio in giurisprudenza. Il primo risultato siamo noi ancora, quindi giurisprudenza, Stagio e lavoro per giovani laureati, quindi Agnese che sei di giurisprudenza, vedi, se lo facevi trovavi, ci trovavi. In questo caso non siamo noi che abbiamo lavorato sulla parte di ottimizzazione organica, ma abbiamo pagato Google per essere in prima posizione. Quindi il lavoro è molto diverso, in alcuni casi è simile. Anche qua Google ha tanta gente che fa dei bid su alcune parole chiave, quindi che dice Stagio in giurisprudenza voglio esserci io. Quindi anche qua è importante avere un sito friendly, è importante avere appunto una serie di diciamo di avere un sito che funzioni, ma poi lavorare bene. Anche qua cosa ricercano le aziende? Ricercano persone che sapono utilizzare questo tool che è Google Advertising. Abbiamo poi la parte di mail marketing, quindi gli strumenti di creazione e di invio delle mail, ok? Il primo tra tutti è MailChimp. Diciamo che qui secondo me c'è poco da parlare. MailChimp è quello più utilizzato in assoluto. Questo per farvi un esempio, c'è una parte che è proprio la creazione del template. Considerate che questi template si possono fare in due modi. HTML, quindi per chi sappia più sviluppare, oppure drag and drop. Quindi io dico voglio mettere il testo, dopo vi farò vedere pure qualcosina che è molto interessante. abbiamo poi la parte di business Facebook, quindi la parte di promozione. Prima parliamo dei social media, quindi la gestione degli account social per esempio. In questo caso parliamo della sponsorizzazione su Facebook, quindi investire soldi per ottenere del traffico o dei lead o quello che può essere utile. Anche questo lo vedremo tra poco. E poi la parte di Google Analytics, che Google Analytics per chi non lo conoscesse è un tool gratuito che fornisce Google a tutti i siti, basta mettere un pesettino di codice sul proprio sito per analizzare il traffico, quindi quanti utenti ho ottenuto oggi, chi sono questi utenti, quante pagine hanno visitato, per quanto tempo sono state sul nostro sito. Ed è importante saperlo utilizzare. Ma arriviamo un po' alla domanda importante, quindi voi potreste dirmi, Nicolò, tutto bello, belle queste competenze, ma come posso migliorare queste mie competenze? Ok? Ragazzi, ci sono un sacco di modi, però mi piacerebbe dividere, no? Abbiamo la teoria e la pratica. Ok? Secondo me è difficile fare solo teoria come è difficile fare solo pratica. Come al solito il giusto connubio è la cosa migliore. Partiamo un po' dalla teoria. Considerate, ragazzi, che se uno va su Google e scrive corsi Google Analytics, corsi Facebook Advertising, trovi un sacco di cose, ma talmente tante che lo stesso Google che fornisce con la Google Digital Training dei corsi, ad esempio qua abbiamo dei corsi su il concetto base di marketing, abbiamo come avviare un'attività online, come fare SEM, come fare SEO, come usare la Search Console, quindi tutto ciò che ovviamente prodotti Google non imparerete mai a usare Canva su questo. Però sono corsi completamente gratuiti che forniscono anche delle certificazioni, quindi sicuramente questo può essere per tutto ciò che è Google questo potrebbe funzionare. Abbiamo poi tantissime piattaforme a pagamento dove invece sviluppare le proprie competenze, in questo caso direi più competenze digitali. Abbiamo Learn, abbiamo LinkedIn Learning, abbiamo competenze, abbiamo carriere.it, quindi sono varie piattaforme, sono a pagamento, io ho riportato quelle che io conosco, le ho utilizzate tutte, ok, sono sincero, non sono un grande utilizzatore, quindi la mia non è una, non mi sto dicendo andate a utilizzare le Erneo, fate questo per far vedere che esistono delle piattaforme, pochi euro, 10, 10, 8, 15 euro al mese, e potete accedere a un sacco di corsi con dei professionisti, quindi sicuramente, Giuseppina dice giustamente Coursera, Giacomo dice Udemy, assolutamente ragazzi, questi sono più stile Netflix, quindi paghi un tot al mese e c'è tutti i corsi limitati, Udemy, Coursera invece paghi il singolo corso. Ne esistono tantissimi, quindi ragazzi, il tema è, se uno vuole, lo può trovare. Abbiamo, anche su Tutor, facciamo un sacco di masterclass gratuite, per esempio Excel, per esempio, l'abbiamo fatta su PowerPoint, le facciamo su Digital Marketing, insieme a Marketing Espresso, quindi ragazzi, ne facciamo davvero, davvero tantissime anche noi, ne faremo una, se vi può interessare, che parerà proprio di competenze, con Giulia L'Apertosa, che è una dei founder, insieme a Luca Lamesa, di Carriere.it, quindi mi sembra che è il 27 aprile, quindi domani alle 5, per chi è interessato, vi consiglio di partecipare. Però il problema è che qua, io partirei con un tema interessante, tutti giustamente dicono, no, però, solo con la teoria basta? Io sono da dire che se come la teoria non serve a niente, o meglio, è essenziale la teoria, quindi scusate, no, non serve a niente, è essenziale, ma se non è unita a un minimo di pratica, è proprio difficile capire fino in fondo, ok? Quindi, però, uno dice giustamente, ma io come faccio a fare la pratica di Facebook advertising, se non trovo un lavoro, ok? E io, ragazzi, qui vi rispondo su come io avrei fatto, ok? Ovvero, dico, ma perché allora uno non può crearsi un suo blog personale, e provare a fare tutte queste cose che io vi ho raccontato. Quindi vi faccio un esempio proprio preciso preciso, poi ovviamente possiamo parlarne. Faccio un esempio, a me piace molto le serie TV, ok? Quindi potrei, potrei decidere di aprire un mio blog personale, che è la cosa più semplice del mondo, quindi un blog con degli articoli che scrivo io, che parlano ad esempio di suggerimenti di Netflix, quindi magari lo posso chiamare serie TV Advisor, punto, punto, we're, perché il dominio sarà difficile. Quindi, come, cosa posso fare? La prima cosa, posso andare su Wix, che non so chi lo conosce, ma è una piattaforma che permette di creare dei siti molto semplici, se c'è qualche sviluppatore ci rimarrà male, però è molto, creare molto semplice, gratuito pure, per creare un sito. Ma ci sono già dei template pronti, quindi io dico, voglio creare un sito con degli articoli, ok? E vado a creare un sito dove, banalmente, c'è tutte le pagine, ci sono degli indici, e vado a fare. Che anche WordPress, WordPress è un pochino più complicato. Wix è proprio drag and drop, quindi non bisogna sapere sviluppare, poi ecco, se uno ha una base di HTML, è ancora più facile. Quindi immaginate, io creo il mio sito, che lo chiamo, come vi dicevo, serietvadvisor.com, e inizio a creare due o tre contenuti, sugli argomenti che mi interessano a me, per esempio, parlerò della nuova serie, che si chiama di, la nuova serie di LOL, parlerò della nuova serie di Peaky Blinders, su Wix, tutte quelle che mi possono piacere. Creo dei contenuti, molto semplici, a me piace, e lo vado a fare. Considerate che, è una cosa che si può fare in una giornata, ok? Certo, l'obiettivo qua, ragazzi, è imparare, non è vendere, non è fare soldi, quindi è un altro mondo, però, creo questo sito con Wix. Poi cosa faccio? Creo i miei profili social. Grazie. Facile. Vado su Facebook, completamente gratuito, e creo il mio che si chiamerà, serietvadvisor.com, su Facebook, e su Instagram. Creo un logo con Canva, per dire, molto semplice, quindi magari, è una S blu, così la vado a creare, e così, ecco, con Wix io imparo un pochino, a capire, no, un po' come funziona il sito, come funzionano le pagine, creo un contenuto, creo dei profili social, quindi Facebook e Instagram, ragazzi, facilissimo, tutti voi l'avete fatto, magari, però, quanti voi invece non hanno mai creato, un profilo aziendale, quindi è un modo per farlo, quindi creo dei profili aziendali, poi, cosa faccio? Creo dei contenuti, quindi, i contenuti sono da un lato, creo degli articoli, che in qualche modo possono essere utili, per, quindi magari, appunto, uno di Peaky Blinders, uno di Switz, che mi piace tanto, ok, quindi creo questi due contenuti, poi che faccio? Creo dei post, creo dei post sui social, pochissimo, ci metto, creo un post, e, ecco là che ho creato un primo contenuto, ok, poi cosa faccio? Promuovo questi contenuti, quindi vado su Business Facebook, è tutto collegato, e dico, investo 5 euro su questo, per creare del traffico su questo qui, lo faccio con Facebook, lo faccio con Google, ok, e anche qui, il mio obiettivo non è quello di avere, di avere un ritorno, è semplicemente quello di provare un po', a capire come funzionano questi strumenti, quindi faccio questa promozione, investo una cifra, ragazzi, parliamo di 50 euro, 100 euro, ok, quindi promuovo un minimo di contenuti, poi cosa faccio? Ho anche il mio Google Analytics, e quindi vado ad analizzare, ok, quindi, cosa ho fatto in questo caso? Qui parliamo di un lavoro che uno può fare in un weekend, secondo me, ma poi non c'è nessuna fretta, mi permette da un lato di scoprire il tema della Wix, quindi, il tema di Wix, quindi vado a vedere come si fanno un sito, vado a capire un pochino, no, come si struttura, e questo, anche io che magari voglio lavorare come, come il digital marketing, può essere interessante scoprire, no, che le ti spiegano un sacco di cose, creo dei profili social, ragazzi, questa è proprio la base aziendale, quindi vado a creare, scopro come funzionano poi gli analytics, di Facebook, gli analytics di Instagram, creo dei primi contenuti, vado a vedere, no, chi mi sta seguendo, trovo delle strategie, ci ragiono, creo dei contenuti, e compro un dominio, dice Giacomo, ma questo, diciamo, è scontato, considerate che Wix, puoi fare tutto su Wix, puoi comprare il dominio, lo puoi collegare, puoi fare tutto, ragazzi, adesso leggo poi un po' di commenti che sono arrivati, promuovo i contenuti, quindi grazie a Facebook, questo qui, come vi ricordate prima, è una delle competenze più ricercate, ok, Facebook Advertising, Sam, SEO, quindi provo a capire un po' come scrivere gli articoli in ottica SEO Friend, li vedo come vanno, Facebook Advertising, crea un advertising, lo provo, adesso vi farò vedere qualcosina, e vedi i risultati, ragazzi, in questo caso, io, quando mi presenterò al colloquio, se qualcuno mi chiede, ma tu hai mai fatto un'advertising? Certo che l'ho fatto, ho provato, e posso rispondere a queste domande, quindi se qualcuno mi chiederà cos'è il CPC, io lo so, ma sai, non lo so perché l'ho letto, perché magari lo leggi, sì, vedi il video su Learn e dici, ah, il CPC è quello, ma no, lo sai perché il tuo obiettivo è stato quello di ottenere il CPC sotto una certa soglia, ok, quindi questo, ragazzi, secondo me è quello che io farei, lato pratico, per provare, nonostante io magari in questo momento non abbiano lavoro. Qui parliamo di WordPress, sicuramente WordPress è molto meglio di Wix, però per quello che il mio obiettivo qual era? era quello che c'era dopo, quindi Facebook, Instagram, promozione dei contenuti, in questo caso secondo me Wix poteva essere un po' più semplice, ma sicuramente Riccardo dice, sì, Riccardo dice un punto interessante sul tema del personal branding, Sofia dice meglio WordPress se si vuole scalare, assolutamente, no? Io qui, come vi dicevo prima, ho messo subito le mani avanti, l'obiettivo qua era imparare. Poi ragazzi, tante idee brillanti sono nate in questo modo, magari uno inizia un po' per gioco e poi dice, cavolo, faccio e inizia a avere successo, quindi io anzi me lo auguro, però ecco, questo per dire, no? Il digitale dà la possibilità di poter provare tante cose con poco budget, con davvero un computer, una connessione internet, basta provarci e avere creatività, ecco, dopo diciamo, riteneremo leggermente su questo punto, quando parleremo dei colloqui. Io non so se ci avete qualche domanda, vedo che siete ancora tantissimi, quindi mi sembra che sta andando bene, anzi, se avete qualche feedback, volete che vado più piano, ripeto qualcosa, io lo faccio volentieri, o se avete qualche domanda, mentre qualcuno ci pensa se ha qualche domanda, io vi dico che la prossima parte, adesso voglio condividervi lo schermo e farvi vedere qualcosina, voglio farvi vedere come si crea una campagna su Facebook, vi farò vedere MailChimp, ok, quindi come si crea una mail, vi farò vedere Google Trends, vi farò vedere qualcosina, che secondo me può essere molto molto interessante, quindi se non ci sono domande, io condivido lo schermo, ragazzi. Allora, condividiamo lo schermo intero, io ovviamente adesso, adesso lo vedete tipo a me all'infinito, vi chiedo se per caso vedete il mio schermo, perché io, ok, vedete. Allora, partiamo da Facebook, io purtroppo non posso vedervi, quindi io adesso faccio vedere un po' tutto, e poi possiamo tornare. Partiamo da Facebook, questo qui è il nostro account che noi abbiamo, e come funziona Facebook? Ci sono una serie di campagne, una serie di gruppi di inserzione, e delle inserzioni, però io voglio creare delle campagne, ok? Come vedete, ho dei vari obiettivi, ok? Posso vedere una serie di obiettivi, che possono essere notorietà del brand, copertura, traffico, interazione, installazione dell'app, quindi facciamo un esempio che noi dobbiamo fare una campagna a traffico, vi ricordate, no? Come vi raccontavo prima, il nostro obiettivo in questo momento, qual è? Quello di, abbiamo creato il nostro articolo, sull'Advisor, quindi io ho creato un articolo che parlo di Netflix, di tutte le serie di Netflix, voglio promuoverlo un po', per ottenere un po' di traffico. Come vedete, ci sono tre step, no? Il primo è generico sulla campagna, quindi dove io vado a definire un obiettivo, tendenzialmente posso fare un miliardo e mezzo di altre cose, ma adesso è inutile che vi faccio vedere, quindi vado a definire l'obiettivo che è traffico. Il secondo step, invece, è la parte del gruppo di inserzione, quindi è, la domanda che lui ti fa è, a chi devo far vedere questo advertising, e in quale posizione? Quindi, io vado a dire che lo devo fare, per esempio, sul sito web, e mi chiedi un budget, quindi vado a dire, per esempio, io voglio investire un euro al giorno, ragazzi, qui nessuno lo dobbiamo fare, non è un problema, per, faccio un esempio, cinque giorni, quindi, molto tranquillamente, e poi mi definisce il pubblico. Questa è stata la rivoluzione che ha fatto Facebook, ok? Intanto entro qua, ok, che ha fatto Facebook, perché mentre un tempo, no? Immaginate, io mettevo un cartone pubblicitario, la mettevo all'incrocio tra Via Roma e Corsi Italia, qual era il mio target di riferimento? Sì, potevo fare qualche studio, ma che ne sapevo. Facebook mi permette invece di andare super nel dettaglio. Facciamo, facciamo un esempio. Dico, voglio solo le persone che stanno a Milano, proprio un caso, un caso che, che con tutti facciamo, facciamo special, di tutte le persone che stanno a Milano, e, che hanno un'età, magari, ecco, io dico, chi è che poi si è interessato all'articolo fatto su Peaky Blinders? Magari, ecco, ragazzi, tra i 18 e i 35 anni, perché so che interessa, e poi lui mi dice, ma, chi sono queste persone? Guardate qua, no? Ad oggi io sto targetizzando 2 milioni di persone, in questo momento, e dico, no, proviamo a mettere le persone che gli interessa Netflix. Vediamo se ci sta, non ci sta, ci sta Netflix. Quindi io metto così, e quindi, questo, queste sono, ci sono, secondo Netflix, 780 mila persone, che a Milano e dintorno, quindi qui prendiamo pure un po' di Bergamo, un po' di Como, sono interessati a Netflix, questo sono interessati a relativo, vuol dire che magari hanno messo like la pagina di Netflix, magari sono iscritti a Netflix, magari hanno visto un video dove c'è il logo di Netflix, ovviamente, ragazzi, qua, Facebook ha una potenza mostruosa per coprire queste cose. Però dico, no, guarda, 780 mila persone sono un po' troppe, andiamo un pochino a più restringere, vediamo tutte quelle che gli piace, adesso ragazzi sto ambientando, è la storia, perché magari Peaky Blinders, no? è Netflix, ma anche storia, figo, sono 260 mila persone, però, ok, oltre alla storia, però effettivamente parla di Londra, quindi proviamo ad andare a mettere anche quelli che oltre alla storia gli interessa è anche Londra, ok? Quindi, in questo caso sono 340 mila persone, molto, molto interessante. Però dico, aspetta, fammi escludere delle persone, perché io, queste sono 340 mila, fammi escludere tutti quelli che, oddio fammi escludere tutti quelli che però invece gli piace il signore degli anelli. Perché? Perché secondo me, non sto aumentando, quelli a cui faccio il signore degli anelli, Peaky Blinders, non gli piace. E sono in tali 310 persone. Ragazzi, questo strumento qui è di una potenza mostruosa, ok? Perché vi ammette di andare nel dettaglio quanto voi neanche potete immaginare. Posso andare, qui vi faccio vedere, no? sfoglia, posso andare a vedere i dati demografici, quindi l'istruzione, a che livello sono arrivati, posso vedere l'aspetto finanziario, posso vedere i loro interessi, ok? Posso vedere i loro comportamenti, ragazzi, posso fare un sacco di attività, ok? Quindi, questa parte qui, oggi adesso non vorrei stare troppo qua, perché io potrei parlarne per ore, però, per farvi vedere quanto è dettagliato. Una volta fatto questo, posso andare a decidere i posizionamenti. Quindi posso dire, ma questo tipo di advertising, dove lo vogliamo far vedere? Torno qua per vedere se va tutto chiaro, però mi sembra tutto a posto. Facebook, Instagram, Messenger, Audience, quindi vedi, lui mi fa vedere sul feed, sul feed di Instagram, marketplace di Facebook, feed di Facebook, o la storia, quindi le Instagram Stories, immagino che tutti lo sappiate, che Facebook e Instagram sono, diciamo, sempre del buon Mark Zuckerberg. Quindi posso andare a decidere il posizionamento, dove si deve vedere. Una volta che io ho deciso, no, dico per esempio, non voglio che vada sulle storie di Instagram, perché non mi piace. Ok. L'ultimo step è la parte invece di, di quello che vanno a vedere, quindi l'inserzione, la parte grafica. Quindi facciamo un esempio. Adesso io ovviamente vado a mettere magari il SEO di Tutored, perché non saprei cosa, non ho ancora l'articolo su Peaky Blinders. Lui cosa fa? Quindi dice, vedi, in questo caso, l'utente lo vedrà in questo modo. Quindi io qui scriverò la serie più bella, e qua scriverò scopri i nostri consigli. Mi faccio, ragazzi, sto aumentando ovviamente. Quindi posso andare a creare un advertising. Posso andare a vedere, in questo caso, come si vede sul feed, posso andare a vedere come si vede in stream, posso andare a vedere come si vede all'interno degli articoli, posso vedere come siete sui siti, posso andare a vedere, ragazzi, tutto, come lui lo fa vedere. Ok. Una volta che ho fatto questo, io premo pubblica, e magicamente questa si va a pubblicare. Ok, ragazzi, questo per far vedere come funziona Facebook. Ovviamente, questo, ragazzi, è gratis. Una volta che uno va a creare una pagina, automaticamente può fare Facebook advertising. Può subito mettersi a smanettare, vedere quanti sono, giocare, quanto gli vale. Questo, per esempio, era Facebook advertising. Passiamo alla parte di email. Ok. Mondo completamente diverso. Nel nostro case non ci stava. Per esempio, nel nostro case potremmo dire, magari dopo che, se uno vuole, se uno gli piace l'articolo, può lasciare la sua mail. E quindi noi abbiamo delle mail degli utenti. E noi, una volta al mese, gli diamo i consigli sulle migliori serie TV. Questa, per esempio, è una mail che noi abbiamo in questo momento attiva. Non mi ricordo in quale caso. Però è una mail che noi abbiamo attiva. Per far vedere quanto è facile creare queste mail, è molto semplice. Io dico, voglio aggiungere, voglio aggiungere qui, un testo. E aggiungo il testo. E il testo scrivo ciao a tutti. No, ragazzi, ora è molto, molto... Poi dico, no, aspetta, fammi aggiungere un'immagine più il testo. E quindi vado qui, posso creare un'immagine e posso aggiungere il testo. Quindi, questo qua, ragazzi, è una cosa che possono fare tutti. Anche chi non sa usare Photoshop, Canva. Ovviamente, ecco, per fare questa grafica qui può servire Canva, sicuramente. Però tutto il resto, come vedete, il 90% di questi contenuti sono tutti, sono tutti fatti qua. Questa pure è una grafica, questa la so fare pure io. questo sono degli screenshot, questo è uno screenshot, quindi vedete quanto è facile, no? Ormai, è comunque andata davvero avanti. Certo, se volete che è una mail super intelligente che si nasconde, che fa cose fichissime, bisogna svilupparla. Però, ecco, ragazzi, in ottica sempre di lavorare nel marketing, trovare lavoro, che è un po' l'argomento di oggi, già questo, ragazzi, siete avanti, già se voi avete, se entrate sul MailChimp e avete creato due o tre template, già siete meglio del 90% di tutte le altre persone. Ok? Quindi questo per farvi... Ok, sono contento, Carolina. E andiamo un pochino avanti, poi se possiamo sempre tornare. Andiamo su Google Trends, anche qua, parliamo in ottica SEO, io devo scrivere un articolo, per esempio, su, sulle mie serie di V, e dico, fammi andare a vedere, ma su, su quali sono le serie di V, magari, del momento, fammi vedere quanta gente cerca. Per esempio, penso, non so quanti di voi conoscono LOL, che è una serie di, che c'è stata adesso su Amazon Prime, e vado a vedere, nel corso del tempo, quanta gente cercava LOL. Guardate, 10, 10, 10, picco. Dal 4 al 10 aprile abbiamo avuto 100 punti su 100. Quindi, cavolo, è il momento giusto, in otte di caseo, di creare un articolo, anzi, dobbiamo farlo un po' prima, ma siamo un po' in ritardo, perché sta crollando, però, cavolo, se io scrivessi un articolo su LOL, oggi sarebbe super, super ricercato. Ok? Oppure, Netflix. Ok? Dico, quanta gente scrive su Netflix in Italia, negli ultimi 10 mesi? Posso andare a vedere un po' il trend, quindi, per esempio, durante le vacanze c'è stato il picco, e così via. Poi posso andare a vedere dove è che effettivamente viene più ricercato. Questo mi potrebbe servire, per esempio, in ottica di advertising. Se scopro che sulla campagna c'è più gente che cerca Netflix, dico, cavolo, faccio la mia advertising sulla campagna. Posso andare a vedere le query associate, e questo è un'ottica SEO, quindi se io, il mio articolo parlo di Netflix, posso andare a inserire delle parole chiave, che sono molto ricercate, per esempio, Film Netflix 2021 è in impegnata. Quindi tantissima gente lo sta cercando, cavolo, crea un articolo che si chiama Film Netflix 2021. Bridgerton, Lupin, quindi posso anche da qui scoprire quali sono le query più ricercate per scrivere i miei contenuti. Ok? Ogni tanto torno di qua. MailChimp è gratuito? Sì, è gratuito. Poi c'è pure la versione a pagamento. Quindi ragazzi, cioè questo qui, nessuno lo conosce, quando noi facciamo i colloqui, dico, cavolo, questo è gratuito, Google Trends si chiama, dovete fare il panico. Ok? Ultimi due. Primo, altra cosa che ogni volta che lo faccio vedere tutti dicono, ma è illegale questa cosa. Facebook, per policy, per tutti i vari problemi, dà la possibilità a tutti di vedere tutte le pubblicità attive su Facebook. Facciamo un esempio. Vediamo proprio Netflix. Quindi io dico, ma fammi andare a vedere Netflix, quali sono le pubblicità che ha su Facebook e Instagram attive in questo momento? E ovviamente dice nessuna, ma io già so che non è così, perché ho sbagliato allora. Vediamo se trovo qui. Ok, Matrix, no, non ce l'ha. No, mi sembra difficile, però andiamo a vedere, scusate, vediamo tipo Accenture. Ok, quindi puoi andare a vedere, ora non c'entra niente, Accenture, quali sono le pubblicità che c'è Accenture Attivo. Guardate quanto è facile scoprire le advertising che c'hanno le persone per trovare ispirazione. Per esempio, prima di un colloquio, qui, non l'avrei detto dopo, ormai già che ci sono, ve lo dico, quindi devo lavorare nel team marketing in Accenture, fammi andare a vedere loro che pubblicità stanno facendo in Italia. Magari, no? Se mi fanno qualche domanda, sono pronto. Vediamo una realtà che fa tanta advertising, cioè, no, se quella che ne fa più di tutti, no, mi dirà zero sicuro, ma infatti, mi dirà zero, ma non capisco come è possibile. Vabbè, comunque, avete capito la potenza di questo. Forse quelli così grandi, non ne trovo. Vediamo, lascio vedere BuddyFit, che sicuramente ce l'avrà. Vabbè, ragazzi, ora hanno deciso di non fare... Ok, queste sono in Spagna. Quindi potete vedere, guardate quanto è importante, per due motivi. Il primo per studiarselo, ok? Il secondo per prendere ispirazione, ok? Ora, adesso torno di qua, e faccio dell'ultima cosa, e torno di qua. Quindi questo qui è assolutamente essenziale. Ultimo, il tema di Figma, qui vi lascio vedere. Questo qua è come noi stiamo utilizzando Figma, e questi qui sono dei contenuti che noi, in questo momento, che abbiamo fatto, questo qua a gennaio, guardate quanto è facile. Adesso io spero che i miei colleghi non impazziscono, però questo qui è Figma. Io cosa faccio? Io che non ho nessuna competenza, posso prendere e decidere di modificare il contenuto. Guardate, modifico il contenuto. Posso decidere di duplicare, quindi mi piace molto questo elemento che è stato sviluppato, lo copio e lo metto su questo. Ok? Quindi, Figma è una sorta di Photoshop, quindi poi io, ovviamente, ho un sacco di attività, si posso fare un sacco di cose, ragazzi, un sacco di cose. Anzi, andiamo a vedere qua, se magari... Ok? Ci mette un po'... Questo qui, per esempio, sono i post, proprio quelli che stiamo per pubblicare adesso. Per esempio, questo l'abbiamo fatto pochi secondi fa. Vedete? Permette, in maniera facile, sia di condividere, quindi io ho creato questo progetto, anzi, non l'ho creato io, l'ha creata la mia collega, io posso entrare, vedere e dire, guarda, questo qui non mi piace, posso mettere il commento e dire, che ne pensi? Posso fare un sacco di attività. Però ecco, anche qui, questo qui a pagamento, mi sembra di sì, però è talmente facile utilizzare per creare i post social, perché ovviamente ti fornisce anche degli strumenti, adesso qui non ci sono, per esempio, vedi questo qui, che ti aiuta proprio nella pianificazione, nell'organizzazione. Ok? Quindi, super semplice da utilizzare, super efficace, sicuramente costa meno di Photoshop. Ok? Quindi anche qua, nessuno vi dice che dovete diventare dei grandi grafici, se il vostro obiettivo è tutt'altro, ma masticare un po' questo tipo di tool aiuterà. Io non sono un grafico, non faccio questo, però magari mi serve una presentazione, fare una cosetta, o so dove mettere le mani. Ah, annaggia, mannaggia ragazzi, scusate. C'avete ragione, non c'è più la condivisione. Annaggia, guardate. Allora, vediamo quando è il 58, vabbè. Ve la ricondivido, allora, a questo punto mi sembra strano, forse ho cliccato là sotto. Allora, vi ricondivido tanto, ho parlato, quindi adesso vi devo solo far rivedere, però ecco, per far vedere un po' come funziona. Quindi dicevo, uno può mettere dei commenti, se ne pensi, ok. Si può, effettivamente, è molto facile, quindi senza vi ripeto, no, così per far vedere un po', questi sono alcuni contenuti che noi abbiamo creato, per dirvi quanto, anche se decidete di, anche se magari siete più orientati su un marketing strategico, o un marketing più analitico, conoscere questo tipo di contenuti sono essenziali, ok. Questo diciamo per far vedere un po' dei contenuti che noi abbiamo, Figma è un assoluto potentissimo, io ora non sono un grafico, quindi non so darvi le differenze specifiche, però posso dirvi che, per il livello di cui stiamo parlando oggi, creare dei post social, preparare qualche grafichetta, sicuramente va più che bene. E allora, io interrompo qua, per ritornare, visto che mi avete scritto un po' di cose, oddio quanta gente avete scritto, quanta roba avete scritto, scusatemi, ho interrotto, naggia. Vabbè, allora, MailChimp è gratuito, poi c'è la parte a pagamento, quindi per creare i template, io ho detto MailChimp, ma ce ne sono tante altre, MailApp, tanti altri. Ojar, bravo, Giacomo, io non volevo entrare così nel dettaglio, ma Ojar è un tool clamoroso, che vi aiuta sia a fare le mappe di calore, quindi per vedere per esempio dove cliccano più le persone, fino a dove scrollano, quindi un po' di questo tipo di attività, e anche addirittura loro registrano i movimenti di utenti, quindi tu vi puoi dire, tutti gli utenti che vedono questa pagina, tu inizia a registrare la loro sessione, e così tu ti rendi conto dove clicca, come clicca. Per esempio noi l'abbiamo fatto circa un anno fa, e ci siamo resi conto che tutti cliccavano su un punto, che però non aveva nessun link. Abbiamo detto, capo, perché fanno questo? Ci abbiamo ragionato, effettivamente ci stava. Ok. Allora, Stefania mi chiede, per Facebook non mi è molto chiaro la struttura, campagne, gruppo e inserzioni, non capisco come in una campagna ci possa essere più target diversi. Bravo. Allora, io ragazzi sono molto veloce, però se mi chiedete io parlo con te. Noi abbiamo una campagna, facciamo un esempio che si chiama app download, quindi Twitter ha una campagna che si chiama app download. L'obiettivo qual è? Qui io vado a settare l'obiettivo, e in questo caso vado a settare pure il budget, quindi con 100 ore al giorno, l'obiettivo è ottenere l'ownload. Poi io vado a creare dei vari gruppi di inserzioni, come avete visto prima, nel gruppo di inserzioni cosa ci sta? Ci sono i target, quindi io posso fare, per esempio, faccio due classici, il primo vado a targettizzare tutti gli utenti già di Tutored, che non hanno l'applicazione, quindi vado a mettere proprio, qui non ho fatto neanche vedere, però la possibilità di poter dire, questi sono i miei utenti, tu fai vedere l'advertising solo a questo. Ok. E questo è un primo gruppo di inserzioni. Un secondo gruppo di inserzioni, invece faccio al contrario, dico no, qui la faccio vedere a tutti quelli che non sono utenti iscritti a Tutored. Ok. In questo caso, come inserzione, quindi su tutti i nostri utenti, magari l'inserzione sarà, ciao utente Tutored, scarica l'applicazione. I nuovi utenti, invece, gli dico, scopri Tutored, scarica l'applicazione. Ok. Questo è un po' il tema. Quindi tutti che mi insultano, tutti mi insultate, che dite che non mi vedete più. Si è interrotta, si è interrotta. Speriamo legga presto. Come si chiama? Il primo sito, adesso vi faccio vedere, poi vi darò tutti questi link che ho fatto vedere, ve li farò vedere tutti. C'è un programma per edigire un piano editoriale? Allora, noi in Step Zero utilizziamo Excel, anzi Google Drive. Ognuno può usare quello che vuole. stesso uno può usare PowerPoint, se vuole. Esistono dei tool, per esempio c'è Buffer, ma anche, guarda, se posso dare dire la mia, io, poi dipende che il piano uno c'ha elaborato. Cioè, se uno deve pubblicare quattro post al giorno, pensiamo un po' a Willita, allora lì magari c'è una cosa molto strutturata. Per esempio, nel nostro caso, che pubbliciamo circa un post al giorno per social, è abbastanza semplice gestirlo lì. Ho una domanda, conviene investire piccole somme in più post oppure una somma consistente su un solo post? Ragazzi, qui dipende un po'. Allora, separiamo in ottica di, secondo me, in ottica di, per allenarsi, io quello che consiglio è piccoli budget su tanti contenuti, magari decidete un budget di 60 euro e dite, ok, io prefaccio 6 post, 10 euro l'uno, molto un po' diversi. Per analizzare, perché è interessante anche scoprire, perché uno poi non sa mai, no, perché questo post è andato bene e questo male. non lo puoi mai sapere, ok, però è interessante un po' testare, quindi io consiglio. Ovviamente, no, in caso in cui invece devi vendere un prodotto, uno investe dove funziona. Quindi ecco, uno vede 100 campagne, quella che noi facciamo così noi avremo, non so, migliaia di campagne attive in questo momento, basta che uno, basta che uno, non ne vede quelle che funziona, le spegniamo e le attiviamo. Publisher, invece, come lo giudichi? Scusami, io ho scritto Publisher così, Costantino, non so, sincero, non so risponderti, magari se me lo spieghi meglio ti rispondo volentieri. Allora, ok, continuate a scrivere, io intanto riproietto le slide, perché c'avevo le ultime cosette, poi ovviamente possiamo stare in chiacchiera tutto il tempo che volete. e vi faccio vedere, anzi, io vi faccio, già che vi faccio vedere una cosa, che diciamo, non volevo farvi vedere, però ve la faccio vedere, perché secondo me è molto interessante, sempre su questo tema qui, no? Perché prima parlavamo, no? Di, proprio di Facebook advertising, no? Un po' la domanda che dicevi tu prima, e far capire quanto poi, Facebook, da disposizione, non sto scherzando, circa 300 metriche, per valutare una singola advertising, da banale, il click, il costo per click, alle impression, il costo per mille impression, a quanti acquisti sono stati fatti, quanti lead sono stati generati, un sacco di cose. Però ecco, anche qui, no? Per darvi un ultimo tip su Facebook, poi continuo a leggere in chat, il video che mi state scrivendo, il discorso è, è importante anche imparare un po' a leggere questi dati, no? Per questo secondo me, uno, se dice, mi lancio su Facebook, faccio una campagna, ok, poi non so quanto può imparare, per questo secondo me è molto importante anche la parte teoria, che sia un learn, che sia un leggersi un articolo, vedere un video su YouTube. Questo per farvi un esempio, no? Noi abbiamo, facciamo un esempio di Tutored, molto, molto facile. Io ho una campagna, il mio obiettivo è ottenere candidature, quindi, quando vi ho fatto vedere, no? A livello di campagna, visto che un campagna, gruppo di inserzione, inserzione. A livello di campagna, il mio obiettivo qual è? È quello di ottenere candidature per un annuncio di lavoro, ok? Che succede? c'ho due campagne, e quindi pensate, io ho due campagne, vado a vedere i risultati, e c'ho da un lato, vado a vedere il CPM, che è il costo per mille in prezzo, una campagna di 3,50 euro e 2,50 euro. Quindi, io in questo caso, potrei dire, cavolo, spengo subito la campagna 1, perché cavolo, mi costa 2,50 euro di là, mi conviene. Però, io invece dire, no, aspetta, però il tuo obiettivo non è il CPM, ma è quanta gente si converte, ok? Quindi, gli direi, andiamo un pochino avanti. Costo per click, ok, scopro che la campagna 1, ha un costo per click di 7 centesimi, mentre invece l'altra ha 11 centesimi. In questo caso, no, aspetta, più gente clicca, più è probabile che si va a cambiare l'annuncio di lavoro, quindi, in questo caso, no, spengo subito la campagna 2, rimango la campagna 1. Però, non sono ancora così sicuro, fammi andare ancora più nel dettaglio. Vado a vedere quanto mi costa, invece, l'utente iscritto. E qui scopro, ancora, che la campagna 1, mi costa l'utente iscritto, quindi l'iscrizione ovviamente lo step precedente alla candidatura, 1 euro e 50, e campagna 2, 2 euro e 50. Dico, vabbè, basta, spengo la campagna, spengo subito la campagna 2 perché mi conviene. Però poi uno potrebbe dire, aspetta, però, ragazzi, qui il tuo obiettivo non è fare il subscribe, magari tu stai facendo iscrivere un sacco di gente a un prezzo basso, magari sono i tenti sbagliati, e poi non sono a candidare. Fammi andare a vedere quanto mi costa invece la candidatura. E vado a scoprire che, per esempio, la candidatura sulla campagna 1 mi costa 5 euro, e sulla campagna 2 mi costa 3 euro e 50. Ok, quindi, quello che dico io è, guardate, come anche i dati, è molto difficile andare a capire cosa guardare, quando guardarla. Molto importante l'obiettivo, faccio un esempio, nel nostro caso, della nostra, articoli su Peaky Blinders, in questo caso io mi fermerò al CPC, però sarebbe sbagliatissimo vedere l'impression, quindi, vedere quanta gente vede la mia advertising, a me non mi interessa, e poi non ci clicca, ma sapendo che il mio obiettivo è generare traffico sull'articolo. Ok, in questo caso andrei a vedere il costo per clic. Quindi ecco, per questo una buona teoria è essenziale, prima di approcciare una pratica, o farla insieme, no? Quindi io dico, mi vado a vedere, vado su YouTube, mi leggo un libro, vedo un webinar, sono su Tutored, su questa parte qui, intanto inizio a vedere. Però ecco, è un attimo che qui uno si sbaglia e dice, ho capito tutto, poi invece non hai capito niente, e sbagli tutto. Microsoft Publisher chiede Costantino, per cambiare un po' argomento, per tenere un po' le domande. Ma guarda, diciamo che, noi l'abbiamo iniziato a utilizzare da poco, ovviamente, niente, niente a che vedere con Google, proprio all'euro di numeri anche, no? Proprio numeri ridicoli rispetto a Google. Quindi io sicuramente consiglio di concentrarsi su Google. Poi, ovviamente dipende, se il tuo obiettivo è lavorare per Microsoft, va a lavorare per Microsoft. Anche qua, sarebbe interessante, a tant'altro ci arriviamo, capire anche le aziende, per esempio cosa utilizzano. Se il mio obiettivo è lavorare in Tutored, e Tutored già io so che utilizzano Google tantissimo, mi impegnerò su Google. Al contrario, se invece la gente so che invece utilizza, in qualche modo, un altro canale, mi vado a imparare su quel canale. Come piano editoriale posso consigliarti Trello. Bravo, brava Carola. Sicuramente Trello è un altro tool molto, molto interessante, è gratuito pure quello, ci sono tanti, ma anche un po' più strutturati. Quello sicuramente può funzionare. Noi l'abbiamo usato per un periodo, quindi ve lo consiglio. Allora, Answer the Public, guarda, potrebbe anche essere anche di più, già come chiede. Answer the Public è un altro sito, vi consiglio di dare un'occhiata, molto molto interessante, tipo Google Trends. Io penso che Answer the Public utilizza l'API, quindi gli stessi, non proprio gli stessi, ma i dati di Google, secondo me. Quindi è abbastanza simile. Quindi ecco, ragazzi, poi vi ho fatto delle Google Trends, ma sapete quante ne vuoi trovare, ma anche, c'è un'altra piattaforma che costa un sacco, che si chiama SEMrush, che è la migliore in assoluto per il SEO. Francesca chiede, ma invece l'impression, cosa sono esattamente, giustamente Francesca, tranquillissima, l'impression è la view, quindi la visualizzazione dell'advertising. Quindi se tu apri SEM, apri Facebook, ti compri un advertising, in quel caso, solo perché tu l'hai visto, ok, quella è un'impression. L'impression quindi è il primo step del cosetto funnel, quindi la prima cosa, l'utente vede l'advertising. Poi c'è il click, quindi ovviamente, su mille persone, magari ci cliccano in tre, ok, e così via. Quindi l'impression è la visualizzazione. Per esempio, sulle storie di Instagram, è quando ti compare la storia sponsorizzata, su Facebook, quando ti compare, su Spotify, l'impression è l'ascolto, quindi tu, se tu non hai il premium, ma sei premium, ascolti un'advertising, quella è un'impression, ok, quindi abbastanza semplice. Spero di averti risposto, poi in caso mi riscrivi. Allora, io, allora, esatto, adesso, mentre vado qui, vado un pochino a questo punto, intanto rispondo a Calogero, che chiede, Semrush è un buono strumento per capire di quali rispetto a Google Trends. Semrush è cento volte, cioè Semrush ti unisce tantissime attività, quindi, io, diciamo, lo consiglio per gli esperti. Ecco, dipende anche qui, ragazzi, ricordiamoci, qual è l'obiettivo? L'obiettivo è iniziare a masticare un po' queste cose, o diventare professional. Certo, se voi volete iniziare a diventare coloro che scrivono i contenuti in ottica di SEO Friendly, Google Trends è solo uno dei cento tool che utilizzerete, Semrush è uno di questi, ok? Però ecco, posso dire, per esperienza mia, io non ho così tanta esperienza in ottimo SEO, ma ormai da tanto, che noi abbiamo diverse centinaia di migliaia di visitatori su tutela, grazie al SEO, quello che ho visto è che ovviamente il contenuto deve essere fatto bene, che è la cosa più importante, il SEO deve essere fatto bene, e poi, quando si parla di contenuto, è molto importante il tipo di contenuto, ok? Più che, sì, la parola chiave può aiutare, però ormai è il contenuto che fa, che fa tanto. Allora, Michele Di Rosa chiede, vuoi approfondire un po' come le aziende usano programmatic? Eh, allora, il programmatic è un altro mondo, io qui mi sembra di non me l'ho mai citato, perché quando si parla di Google, e ci sono due tipi, no? Quando tu paghi Google, io non ve l'ho fatto vedere, perché purtroppo ci ho dati un po' sensibili, e non ve lo posso far vedere, però ecco, la parte di Google Advertising, tu c'è la parte di ricerca, quindi uno che scrive, come ho fatto vedere prima, stage in giurisprudenza, e esce il nostro risultato sponsorizzato, però c'è anche la parte di banneristica, ok? Quindi che io sto sul sito della Repubblica, e mi esce un banner con scritto nuovo portugale di stage in giurisprudenza. Quello, diciamo, è la parte di banner. Il programmatic cos'è? Ok, adesso io, noi l'abbiamo fatto per tanto tempo, però ecco, già un tema un pochino più delicato, però funziona anche, per esempio, sulla Repubblica, anzi, su tutti i siti di informazione, è pieno di banner, ok? Quei banner lì, come arrivano, ok? come vi fanno vedere, tramite il programmatic, quindi ci sono una serie di piattaforme, per esempio Criteo, come anche Google, di persone che investono, quindi per esempio noi, facciamo un esempio di tutor, che vuole vendere le borracce, o da Google, e dico, Google, guarda, io ti pago un euro per ogni impression, faccio un esempio, e io vorrei stare su questi siti qui, però questa cosa la faccio io, altre 100.000 persone, e il programmatic, cosa vuol dire? Che automaticamente, c'è un bidding in tempo reale, quindi dice, per questo spazio pubblicitario, sulla Repubblica, Tutored offre un euro, Casavo offre un euro e 50, Microsoft offre due euro, quindi vince Microsoft, e fa vedere questo banner di Microsoft, l'ho super banalizzata, ci sono un sacco, un mondo gigantesco, qui ovviamente, quindi abbiamo da un lato, le aziende che guadagnano con questo, Google guadagna con questo, Criteo guadagna con questo, tante invece realtà, che investono su questo, ora, sicuramente, per tornare un po' a lavorare nel marketing, sulle agenzie, ci sono tantissimi esperti di programmatic, su tutte le agenzie, quindi è quello, grandi aziende utilizzano programmatic, spesso non è in maniera diretta, io questo non lo so, non lo so per certo, però conosco tante persone, che lavorano in grande realtà, quindi ecco, una grandissima realtà, solitamente si affidano, a delle agenzie pubblicitarie, che si occupano del programmatic, perché ovviamente è più semplice gestirlo, perché non è per niente banale, saper gestire tutta la parte di programmatic, quindi, in l'agenzia lo vedete, sulle start up non tutte lo fanno, perché servono budget abbastanza importanti, noi l'abbiamo fatto per un po', poi adesso non lo facciamo più tanto, quindi, che lo utilizzano come clienti, immaginate, Audi, lo userà tantissimo, perché ovviamente, ha dei budget mostruosi, in realtà come la nostra, è un po' meno, Airbnb probabilmente lo userà, un budget non lo so, non glielo chiederò, però ecco, questo è un po' il tema del programmatic, del real-time bidding. Un'alternativa a MailChimp, poi ci sta MailApp, c'è Sendinblue, per esempio, poi ci sono anche piattaforme, dove, queste qui, Sendinblue e MailApp, ma ne trovate tantissime, noi per esempio utilizziamo un sistema, che non ho fatto vedere, che si chiama Clevertap, dove c'è sia la parte di Analytics, che la parte di invio massivo di mail, c'è Salesforce, che forse è il numero uno, però ecco, anche qua, dipende qual è l'obiettivo, no? Se l'obiettivo è imparare a fare delle mail, MailChimp, MailApp, Sendinblue, vanno più che bene. Certo, se dovete entrare un po' più nel dettaglio, potete vedere. Io, diciamo, mentre fate altre domande, vedo che arriviamo pure nella sezione di domande, io ho giusto un paio di tips, no? per farvi vedere sul tema del colloquio, ok? Io, diciamo che, tutta questa presentazione, voi parlo di tante cose, e io volevo darvi giusto tre consigli, e farvi qualche esempio. Il primo, diciamo, non mentite, ok? Quindi, prima parlavamo, io vi ho detto un sacco, imparate, sporcatevi le mai, no? Quindi, ok, bellissima, una teoria, bellissima andare a vedere un video su YouTube, partecipare a un webinar su Twitter, però, secondo me, se voi, per esempio, vedete un corso di dieci ore sul Facebook advertising, ma senza poi avere un caso studio, quindi senza provare a smanettare, se no, imparate la metà, ok? Quindi io dico, provate, mettete le mai. Però se non l'avete fatto, ditelo, perché ti beccano subito, quindi se voi dite, ah sì, Facebook advertising, io ho fatto un sacco di advertising, poi uno che fa una domandina, faccio vedere dopo qualche domandina, cascate subito, cascate subito dalla sedia. Secondo, io adesso ovviamente, ragazzi, non voglio entrare nel webinar che ho già fatto Chiara, che è cento volte più approfondito su questo tema. Ovviamente vi dico, studiate bene l'azienda e le persone, ok? Essenziale studiare bene l'azienda prima di un colloquio. Ovviamente io entro al terzo consiglio, che è questo, studiate bene la loro comunicazione, la parte di advertising, il tono voice. Qui ho rimesso Facebook, farevi ricordare la library, no? Facciamo un esempio, se una persona volesse entrare nel nostro team, cavolo, se una persona vi arriva da me, e ha visto quante persone siamo, e come siamo divise, ancora prima di fare il primo colloquio, Quindi noi abbiamo un team grafico, un team un po' più esperto. Poi ha visto la parte di advertising su Facebook, mi dice, ho visto questo, ho visto quest'altro, mi dice che, giustamente Adriana, questo è un altro tema. Poi adesso dopo ti risponderò pure su quello, se volete. e quindi ecco, sicuramente questo è molto importante. Arriverete preparati, considerate che già studiarsi bene l'azienda, già siete al meglio del 50% delle persone. Se poi voi vi studiate anche la comunicazione, il tono voice, potete anche fare delle domande, a causa essenziale dei colloqui, quindi fare una domanda tipo, ho visto, vedo spesso le vostre advertising, una curiosità, ma voi, come mai avete deciso di utilizzare Instagram statico, e non fare i video, storie che funzionano di più secondo me? Oppure, ho visto il vostro canale di YouTube, molto interessante, però non mettete sotto video, ma come mai questa scelta? Adesso faccio domande super stupide, ok? Però è molto importante, aver studiato bene è essenziale. Come il tono voice, ovviamente ragazzi, se uno vuole lavorare nel marketing di generali, avrà un tono voice. Nel marketing di tutor, un altro tono voice ancora, nel marketing di generali ancora, Google un altro ancora, però saperlo è molto importante. Ok? Quindi, questo per darvi tre tips un po' più specifici. Adriana, che addirittura ha preso tre like, diceva, se hai anche modo di farlo, il colloqui. Ragazzi, su questo non c'è dubbio, però ecco, ora, non voglio fare un webinar su come trovare lavoro, perché, sicuramente è un altro mondo. Quello che posso sicuramente dirvi, è che fare un progettino personale, come per esempio, il tema di dire, faccio un blog sulle serie TV, inizio a promuoverlo, verrete notati. Se poi vuoi scrivere nel CV, ho creato un mio blog personale, su questa parte qui. Grazie a questo ho imparato questi tool qui, ho ottenuto X risultati, che sono piccoli, fidatevi che è molto più difficile che un HR vi scarti il CV. Ma perché? Perché è curioso. Perché non lo fa nessuno. Io davvero conosco dei ragazzi che hanno aperto, sono davvero pochi, ragazzi, sono davvero pochi. Ci sono poi tante altre strategie che uno può applicare, no? Però ecco, ottenere il lavoro, ottenere il colloquio, è un altro paio di maniche. Sicuramente, farvi notare, creare le attività, può essere un modo per far risaltare. Ok? Io sono lavorato in comunicazione, oggi mi hanno detto che sono troppo qualificato per essere assunto. Paolo, io non voglio assolutamente entrare in queste, in queste dinamiche. Capisco, diciamo, capisco le varie situazioni. Ecco, consiglio così, quello che posso dire è, una startup non guarda questo tipo di cose. Poi adesso, spero che non era una startup, perché sennò faccio una figuraccia, però ecco, io conosco tanti ragazzi delle startup, conosco il nostro caso. Sicuramente, una grande azienda ha un altro tipo di mood. Ok? Ok, sono contento. È un altro tipo di gerarchie, ci sono varie attività. Una startup non ha questo tipo di gerarchie. Faccio nel nostro nome a tanti altri, no? Certo, se io sto cercando un gruppo di dieci stagisti giovanissimi da formare, è un altro tema. Però se c'è una posizione, non vedo assolutamente qual è il problema. Quindi dipende un po', ok, questo tipo di attività. Io però volevo andare velocemente avanti per farvi vedere, no? Proprio tre domande classe, che almeno, queste sono quelle che faccio io. Io, ultimamente, non più tanti, fortunatamente, perché abbiamo creato un po' un team apposta. Però ecco, spesso ho fatto colloquine nel passato e facevo delle domande. Facevo delle domande non tecniche, come potrete vedere, per capire, il livello. Perché io, vi ripeto, io non voglio, quando, voglio, mando che magari cerco persone più qualificate ogni tanto, quindi Paolo, in quel caso ha senso. Però può capitare che magari io apro una posizione di intern dove non mi interessa se tu sei super skillato o no. Quello che mi interessa è che però tu abbia la base. Manca un po' l'asset, come vi dicevo prima, una persona che si presenta da me per un lavoro da digital marketing specialist. Assolutamente noi sono molti generici, noi siamo un piccolo team, di 5-6 persone, quindi non abbiamo così lavori specifici. Però ecco, io faccio spesso delle domande, faccio sempre queste, partendo da queste sono un po' più tecniche, chiedo, qual è il tasso di apertura di una mail? Anzi, ve la faccio. Se qualcuno risponde, in chat sono molto interessato. Quindi, qual è il tasso di apertura di una mail? Quindi, in media, poi ovviamente ragazzi non vanno ad andare su Google e cercarlo, perché se no... Però ecco, in media, io faccio spesso quanto... qual è il tasso mail? Sapendo che ci sono mail che mi hanno aperto l'1%, mail che mi hanno aperto il 100%, però un tasso di una newsletter, ok? Questa è una domanda che io faccio spesso. Ma io non è che voglio sapere esattamente quello che tu mi... il tuo risultato, ok? Però se... però è facile, no? Se tu mi azzecchi un numero, comunque i ragazzi in chat hanno risposto bene, ok? Diciamo che poi dipende molto dal settore, però ecco, va comunque tra il 20, diciamo tra il 15 e il 25. Poi dipende, noi fortunatamente abbiamo molto di più, però ecco, se tu vai a vedere pure MailChimp da questi dati specifici, se tu mi dici 80%, vuol dire che tu non sai neanche cosa vuol dire la mail, ok? Questo per dire. Quindi ecco, questo per darti un numero. Io non voglio in questo caso sapere esattamente il basso al settore. Voglio capire se tu ci hai messo mano, ok? E qua ragazzi l'80% mi sbagliava, mi diceva 80%, 70%, 60%, 100%, cioè, vabbè, quindi per dire un attimo. Seconda domanda, e già qui, vedi, entra un po' più nel dettaglio. Io chiedo, molto molto aperto, cosa serve il Facebook Pixel? Oggi non abbiamo parlato, quindi anche qui, se qualcuno mi va di rispondere, mi risponda e saremo, sarò molto felici. Le domande che, questa domanda qui, considerate che se una persona ha mai utilizzato business Facebook al 100% gli ha comparso il pop-up dicendo, ehi, installa il tuo Facebook Pixel, 100%. Poi, io faccio questa domanda per capire se una persona ha mai visto Facebook, perché fare la domanda e dirgli, ha mai creato un advertising su Facebook? È troppo... La gente dice, sì, sì, certo l'ho creata, però poi non so mai come dimostrarla. Al contrario, una domanda del genere è facile. Vedo che siete molto timidi, e nessuno sta rispondendo. Sta rispondendo. Ok, Giuseppe, ok, vedo, vedi, qualcuno di voi risponde, esatto. Il Pixel di Facebook penso sia una cosa pazzesca, quindi serve per monitorare il traffico, come dicevate, serve per modificare i lead, quindi se io ho, per esempio, in nostro caso, no? Noi abbiamo il Pixel sul nostro sito e mandiamo a Facebook, ogni volta che un utente si candida, mandiamo a Facebook un evento, si chiama. Questo è essenziale, così io direttamente dal mio gestionario di Facebook posso sapere che grazie a questa campagna ho speso 1000 euro, ho avuto 1000 candidature, quindi il costo per candidature è stato di un euro. Questa cosa qui, Facebook me la può dire, grazie al Facebook X, come dice anche Riccardo, è un modo per monitorare anche i download, quindi è un modo per far parlare il tutored e il sito. Questa qui è pure una domanda già un pochino più difficile, però interessante. E qua, un'altra domanda ancora, però anche qui, super ampia, vi chiedo, quali sono le tipologie di campagne che si possono fare su Google Ads? Ok? Anche qua, se qualcuno vuole rispondere, sarò molto curioso, però anche qua, questo qui presuppone che una persona ha aperto un account di Google Ads. Avendolo aperto, la prima cosa che ti chiede è qual è il tipologia di campagna che vuoi andare a fare? Proprio subito, te lo chiedi subito. Quindi, se io ti dico, e la persona mi dice, ah sì, io ho fatto su Google Advertising, gli faccio questa domanda e non mi sa rispondere neanche con uno, due, tre tipologie, allora lasciatemi dire che non è vero che l'hai fatto. Display, ricerca, bravissima. Display, ricerca, video. Quindi ecco, sono questi tre, diciamo, poi ci sono un miliardo di tipi, no? Quindi, shopping, vabbè, tu qui siete esperti. Quindi ecco, questo per dire un attimino come, spesso, le aziende, in questo caso io parlo per quello che ho visto io, ovviamente, no? I ragazzi che si vanno a candidare, magari hanno fatto tanta teoria, quindi magari hanno fatto anche dei master nel marketing, io, secondo me, è molto interessante. Però ecco, unire una teoria, come anche un master, ha una pratica che non ci sta, spesso poi i master di oggi sono anche molto pratici, è sbagliato. Quindi io dico, ma se tu ti cagli come social media manager, ok? E io poi ti chiedo la domanda, ma tu racconti un po' la tua esperienza, anche, ragazzi, anche un ragazzo non è laureato, cioè un ragazzo non è laureato, che vuole lavorare come social media manager da noi, io ho una domanda che lasciatemi dire che è super lecita, è fighissimo, dimmi un po', raccontami un po', ti faccio queste domande e poi ti dico, ma fammi vedere un po' la tua esperienza, fammi vedere qualche pagina che hai aperto, fammi vedere qualche post che hai creato, ma come creavi i post? Se qualcuno dice, ah no, io non ho mai, non ho mai creato dei post, io ho studiato, ma non ho mai creato, e ti dico, scusate, come è possibile una persona che vuole vivere di marketing, di social media, non aver mai creato una pagina su Facebook, una pagina su Instagram? E ragazzi, cioè qui, tanti di voi non l'hanno fatta, non l'hanno fatto, immagino, però ecco, questo per dire come, la pagina Instagram, ragazzi, esisteranno tante di quelle pagine Instagram che si chiamano gattini piccinini, borse belline, e cavolate varie, quindi, non è questo il problema, il problema è che magari spesso la gente non lo vuole fare perché non pensa che sia importante, è essenziale, per due motivi, il primo per risaltare gli occhi delle char, quindi dire, io ho fatto il mio progetto, guardate il mio account di Instagram, quanto sta crescendo, voglio lavorare nel vostro, nel social media, guardate quello che sto facendo, voglio lavorare come Facebook advertising expert, ho gestito, ho fatto centomila campagne, anche se non ho mai avuto un'esperienza lavorativa, cioè questo secondo me è il tema, e poi ai colloqui siete molto più preparati, cioè io come posso decidere di assumere una persona, per esempio uno che fa copywriting e mi deve scrivere articoli in ottica di SEO, se questo non ha mai neanche provato a aprire un blog e farlo, ecco, una cosa che io non farei mai, ovviamente ragazzi, non sono tutti come me, non ho assolutamente la presunzione di dire che con questo trovate lavoro, questa è la svolta, quello che dico nel nostro caso, noi quando tutti i ragazzi che abbiamo assunti, abbiamo fatto queste domande, erano tutti i ragazzi che si erano già sporcati le mani, ma non perché hanno lavorato, ma perché gli piaceva, ok, gli piaceva che si apri una pagina Facebook, un canale YouTube, qualunque cosa, ok, però ecco, questo secondo me è molto molto importante, ed è un qualcosa che io ragazzi consiglio a braccia aperte, ok, provate, io, allora, devo rispondere a qualche me, qualche domanda, perché alla fine più o meno questo era quanto, io, il mio obiettivo, come avevo detto, era così, parlare di un sacco di argomenti diversi, darvi un po' di tocchetti da poi a lì, io ovviamente, adesso leggo qualche domanda che è arrivata, io sono sempre disponibile a, poi potete scrivere, mi trovate su LinkedIn, io metto pure qua la mia mail, mi fa sempre un super piacere, e leggo qualche, intanto fate domande, io intanto vi rispondo, perché ho visto una domanda che mi diceva, non so, di, Dio, Iveta che chiede, non ho una pagina a Facebook e voglio vendere rossetti, ad esempio, mi conviene impostare un pubblico mirato dell'advertising o più la vedono è meglio? Ragazzi, dipende dal budget che uno ha, ok, in teoria, no, ci sono varie teorie, se voi andate sui siti, Learn, Carriere, ci saranno queste filosofie di, cioè con se ci saranno corsi, di ore e ore solo sulla creazione del target, diciamo solitamente quello che tutti dicono è, io creo un, diciamo un target super aperto, quindi dico, vendo rossetti a tutte le donne, o anche gli uomini, diciamo, è indifferente, faccio, faccio una campagna super aperta a tutti, ok, magari investendo 100 euro, sparo, dopo una settimana che faccio, vado a, a, a reinteragire solamente con quelli che hanno interagito con questo tipo di contenuto, quindi, capito, invece di andare a, dire a Facebook il tipo di, di target che voglio, lo faccio direttamente in base a chi clicca, questo è, è un esempio, e, quindi io, però per testare, quello che vi dico è invece, però visto che, con budget molto piccoli, perché uno giustamente da solo, non è che può, pensi, investire 100 mila euro, con budget piccoli, provate, è anche divertente, cioè, anzi, se voi vorreste fare questo e non è divertente, allora forse non è quello che vi piace fare, cioè, io proprio quando, prima di Tutored, proprio mi mettevo là, e proprio mi divertivo, facevo, non funzionava mai niente, facevo proprio, nessuno cliccava, rosicava un sacco, però intanto, quando poi con Tutored, giorno 1, già io sapevo, almeno dove dovevo andare, poi ho fatto comunque un sacco di cavolate, eh, che ne pensi della lettera motivazionale? Penso che sia utile, vi dipende se è richiesta, noi per esempio su Tutored, con tutti i candidati, in questo momento non la facciamo aggiungere, per scelta, anche se probabilmente la faremo aggiungere in futuro, se è richiesta, ha senso, adesso qui non sto a parlare di come si fa una lettera di motivazione, perché se no potremmo stare in un'altra ora, però ecco, ecco, se uno ha un progetto personale, fa, si è sporcato le mani, ha qualcosa da raccontare, perché, diciamo, sicuramente la lettera di motivazione deve spiegare, no, come uno può essere utile all'azienda e non quanto è bravo, non è quello, però per esempio dire, io ho creato questa pagina Instagram dove parlavo delle serie TV, tu ti chiami Netflix, mi sto accandidando per te, guarda, io il mio know-how, io già ho un know-how, già lo sto facendo, quindi è perfetto, sono già la persona giusta, per dire, quindi ecco, io sono a favore quando è richiesta, assolutamente va fatta, ma proprio di corsa la dovete fare, è molto importante, però considerate che, come tutti sapete, non è una cosa nuova, non so adesso la percentualizzata, tanti, 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 tanti HR, danno proprio un'occhiata di due, tre secondi al CV, se non trovi niente interessante, lo scartano all'istante, quindi, dovete comunque, subito dare l'attenzione, io intanto comunque, mentre vi rispondo alle domande, vi metto un link per un breve survey, che per noi è importante, sia per capire, no, così come posso migliorare, anzi, siate cattivi, per noi è importante ricevere feedback sinceri e onesti, quindi, sia su di me, sulla piattaforma, su Tutored, su tutto, ci fa solo che piacere, tanto ormai i survey siete esperti. Sarà possibile rivedere questo webinar, guarda, ricevere tutti, penso tra la ventina, quando finisce, tra mezz'ora o massimo, stasera o domani mattina, una mail con le slide, quindi le slide che ho utilizzato, con tutti i vari link, perché io però mi ho fatto vedere, ma ho messo i vari link a Business Facebook, MailChimp, Library, un po' tutto, ho voluto, ho investito, diciamo, un po' di tempo, però perché volevo darvi qualcosa di utile a voi, ok? Quindi, spero che poi lo utilizzerete. Lista e Facebook, sono i canali più importanti o raggiungi più persone? Allora, poi chiedono se Facebook Instagram sono i canali più importanti. Allora, ragazzi, diventate il target che volete raggiungere. Secondo me, per iniziare, Facebook Instagram vanno benissimo, hanno due miliardi di utenti attivi su base mensile, in Italia non so quanti milioni di persone sono, quindi, funziona. è sicuramente quello più facile perché investi davvero un budget di uno, due, anche un euro al giorno e ottieni subito dei risultati molto buoni. Quindi io consiglio sicuramente Facebook. Però ecco, dipende quello che vi piace, cioè per questo io dico, magari uno prova con Facebook, poi prova a fare Google Advertising, poi provare pure Pinterest Advertising, Twitter Advertising, LinkedIn Advertising, ragazzi, sono all'infinito. La teoria è sempre la stessa, però, eh? Cioè, per questo, secondo me, imparato Facebook, uno quando inizia a muore su Facebook, poi vai su LinkedIn, l'hai capito, cambia un po' il target, la teoria. Però ecco, una volta capito, tutti questi tool funzionano tutti con campagne, gruppo di inserzione e inserzione. Quindi che sia LinkedIn, Facebook, Twitter. Quindi una volta che voi imparate questo, li sapete tutti. Ok? Quindi, alla grandissima su questo. Poi anche lì, con l'inserzione, la grandezza, il targeting, ormai voi imparate e fai il pubblico di retargeting, puoi fare un sacco di cose. Quindi io consiglio di inserire da Facebook quello che usano di più. Però, li vengono anche dall'azienda dove volete lavorare. Se ovviamente voi sapete che un'azienda o un'agenzia è focus molto forte su Google Advertising, fate quello. E poi mi chiede, Ilario chiede invece, è possibile vedere anche gli altri webinar come quello di Excel? Sono tutti possibili. Voi su Tutored, se voi vi registri, vi loggate a Tutored, vi accedete, sulla vostra dashboard avete opportunità di carriera, dove anzi, abbiamo, in questo momento attivo, se non sbaglio, una quindicina di opportunità. Voi considerate, potete vedere solamente quelle che sono in linea con il vostro profilo e che le aziende stanno ricercando il vostro profilo. Quindi dipende un po'. Però ecco, ce ne sono comunque una quindicina attive da generali a grandi aziende a PMI. Quindi potete sicuramente candidarvi, io vi invito comunque a candidarvi che senza fare colloquio è sempre importante per fare esperienza. Nella sezione webinar trovate questo webinar registrato che comunque lo riceverete tramite mail, ma tanti altri webinar come quello di Excel, come per esempio, ecco ragazzi, sicuramente i tre webinar che facciamo con Marketing Espresso sono molto interessanti proprio sulla parte di social media. Quindi ve li consiglio e tutti quelli che poi ho linkato. Quindi ecco, li troverete nella presentazione tutti i vari link. Questo dovrebbe rispondere l'aria. Invece, Fedria chiede queste domande e di conseguenza queste conoscenze dovrebbero essere richieste anche a chi si propone come stagista. Allora ragazzi, io quello che dico è dipende da aziende, dipende dai recruiter. Solitamente non viene richiesta esperienza, però io ve lo dico per esperienze perché io vedo quando ci sono posizioni su Tutored di grandi aziende come un generale e tanti altri abbiamo centinaia di candidature per uno stage dove non è richiesta esperienza. O meglio, non è richiesta esperienza di base ma è un plus. Quindi io dico fatele queste cose, provateci, buttateci la faccia. Se vedete che il generale richiede se se ci mettete pochissimo andare su Google Advertising e provarlo. Se lo studiate su Learn, ma Learn come carriera adesso non voglio promuoverne uno specifico, ma anche gratuitamente proprio su Google, trovate un sacco di questo tipo di piattaforme imparate e lo provate. Nessuno vi chiederà un track record quanti migliaia di euro ha investito. Però già che tu vai lì e mi dici Google Advertising e mi dici onestamente guarda, io l'ho utilizzato, mi sono iscritto, ho fatto qualche campagna, ho messo di bocchiero perché sono profondamente interessato, non vedo l'ora di lavorare con voi per avere un budget importante da investire. Però ecco, già questo è un avlevando che non è essenziale perché non è essenziale. Cavalo quanto, secondo me, è importante invece. Perché per me è essenziale, quando noi assumiamo, questo è essenziale, io non dico che devi essere un guru di Facebook Advertising, però se tu non hai mai visto Facebook Advertising e vorresti farlo, gli dico come è possibile che tu non hai mai aperto un account Facebook. Però questo sono io, quindi non voglio assolutamente dirlo. Anche gli altri webinar su Digital Marketing, tutti sono consultabili all'infinito. Se tutti i webinar su Tutored, una volta fatti, saranno registrati. A breve, diciamo poi, questa è una piccola anteprima, stavo migliorando tantissimo la parte di ricerca dei vari contenuti, quindi nelle prossime settimane tornando su Tutored troverete tutto molto più facile. È conveniente sostenere una pagina Instagram Facebook con un blog? Ma guarda, allora, io infatti ho messo comunque la creazione di un sito Wix nella mia roadmap. Detto questo, se pensate, Will, Willita, che penso di conoscere tutti, è solo una pagina Instagram di intrattenimento. Va benissimo anche quello. Secondo me, ecco, era interessante comunque la gestione di un sito per vedere la parte di Analytics, per magari la gestione della newsletter. Potrebbe essere interessante, però assolutamente, assolutamente sì. Erika chiede, ma invece cosa ne pensi del voice marketing? Oggi sento parlare molto di Spotify Advertising. Sì, perché Spotify ha appena aperto in Italia proprio la possibilità per tutti di fare la pubblicità. Noi abbiamo potuto provarlo in anteprima, qualche mese fa, qualche pubblicità. Anche lì, a livello di, adesso non abbiamo parlato, a livello di funnel, ovviamente, a livello di audio advertising, non è un'advertising in ottica di acquisition, quindi per ottenere i registrati o i candidati, o le visite al blog, per dire, o la vendita di un prodotto diretto, ma più in ottica di awareness, per farsi conoscere. Ok? Con Serena abbiamo fatto delle campagne a budget non così alti, ma un budget che su Facebook magari otteniamo migliaia di click, su Spotify ne abbiamo ottenute poche decine. Ok? Quindi è proprio un altro tipo di attività. Ok? Un altro tipo di attività da fare. Io lo consiglio. Ecco, in quel caso è già un pochino più difficile provarlo, secondo me. Perché è un po' più difficile. Però, ecco, sicuramente, sicuramente ve lo consiglio o vi consiglio di provarlo. Comunque, ragazzi, appunto, grazie a tutti voi. Ovviamente, tutti voi che stanno andando via possono vedere la registrazione. Io guarda, direi, oddio, è tardissimo, leggo le ultime domande e poi, ragazzi, ci siamo perché inizio a essere cotto. C'è la possibilità di vedere il webinar? Assolutamente sì. Martina, come dicevo prima, ve lo invieremo a fine webinar, quindi tra poco, o comunque lo ritroverei su Tutorial da partire da questa sera. Invece, questa qui è una domanda un po' più tecnica. Simone dice, sto cercando di promuovere un personaggio sui social. Il problema è che la crescita è legata alla fama del personaggio. A sé non è noto nessuno lo segue. Come si può uscire da questo chicken egg problem? Bella domanda, bella domanda. qua sono sempre strategie contenuti, qui ovviamente è difficile risponderti su due piedi. Divene anche qual è il tuo obiettivo, il tuo obiettivo è monetizzare, allora entrano in gioco altre logiche molto diverse. Se l'obiettivo invece è provare, allora assolutamente puoi provare un pochino tutto. Quello che io ti dico, secondo me, due temi. Il primo è il tema del content marketing, provare quindi a scrivere dei contenuti. Se tu c'hai solo social, ovviamente è un po' più difficile. Però c'ho tanti, metri, adesso come qui potremmo parlarne anche qua all'infinito. Lato social, io quello che consiglio sempre magari per esempio delle partners, quindi trovare delle community simili e provare magari a commentare o a chiedere di fare dei post insieme. Prima opzione. Seconda opzione sarebbe quello di coinvolgere la tua community. Magari tu, più è di nicchia e più solitamente le community sono affiatate, quindi provare a dire a loro di promuovere o di fare dei share di alcuni tuoi contenuti. Potrebbe essere quello di uscire da Instagram, quindi provare a usare un blog e vari contenuti. Ovviamente dipende poi che tipo di personaggio è, perché se è davvero così legato, se tu comunque puoi anche un po' uscire dal personaggio, bene Simone, sono tante attività. Poi se tu, se ti va, mi puoi mandare sulla mia mail che ho scritto prima la pagina, magari se ho tempo, se riesco, non so tempo perché mi farebbe molto piacere, però se riesco a dargli un'occhiata, gli do un'occhiata magari ti posso mettere in contatto direttamente con la nostra social che lei sicuramente può darti un pochino più di feedback. Allora ragazzi, io vedo che sono resistete 62 persone, quindi super complimenti. Siamo partiti in 150, abbiamo finito dopo un'ora e 40, in 60, sono molto contento. Allora ragazzi, io sono stato davvero contento di questo webinar. Grazie, vedo, c'è Martina, Martina è la mia socia in chat, quindi grazie a Martina che tu hai resistito fino a questo tempo oppure sei entrata solo adesso, questo lo vedremo. Comunque, grazie a tutti ragazzi e un grandissimo boccalupo. Io come ho detto vi ho lasciato la mia mail, vi invito ovviamente a fare il sondaggio, ma tanto pure quello lo riceverete tramite mail e niente ragazzi, ci vediamo presto per tutti i prossimi appuntamenti. La mia mail sta lì. Grazie a tutti ragazzi, buona serata.